e buongiorno benvenuti al diecimo convegno di parapsicologie sentieri infiniti con edizione trieste aspettiamo un attimo che ci sarà qualche qualche spettatore che comincia a vedere vedere questa diretta che venne da noi siamo fiduciosi di avere oggi tantissimi ospiti numerosi vi aspettiamo giusto un attimino siamo a trieste il tempo è bellissimo i relatori tutti sono caricatissimi cominciamo a vedere ciao stefania melena barbara buongiorno buongiorno tutti quanti perfetto benissimo allora siamo in onda cominciamo benvenuti benvenuti in questo in questo convegno a porte chiuse sappiamo benissimo che adesso la situazione in italia è questa che noi non possiamo permettere che arrivano delle persone ad assistere il convegno perciò abbiamo deciso di fare tutto in diretta io ringrazio di tutto il cuore tutti i relatori che sono venuti mi dispiace tantissimo che abbiamo dovuto annullare le sedute private perché c'erano operatori fantastici quelli che volevano infatti dare il loro contributo per il pubblico al convegno ci sarà un'altra volta con voi slavi gering e io presento questo convegno di parapsicologia a nome di accademia di parapsicologia applicata e di ricerche psichiche intuizia con la sede in svizzera è già diecimo convegno che stiamo organizzando avrete per favore un po di pazienza perché è prima volta che noi trasmettiamo così tutto in diretta e possono essere anche alcuni problemi tecnici per favore avete la pazienza d'accordo allora presentatrice del convegno com'era proprio di programma e cristina sombera organizzatrice del convegno qui a trieste e anche una brava insegnante in parapsicologia e parapsicologa perciò qua sono tutte le persone preparatissime tutto per voi lei presenterà tutto il convegno ogni relatore e adesso vi racconterà un attimino come andrà avanti tutta la nostra diretta che sarà interrotta per tutto il tempo soltanto se speriamo di o no possiamo avere qualche problema tecnico ma non ci saranno assolutamente speriamo proprio che la rete è buona che è tutta apposta abbiamo il tecnico che vedete lì in fondo ma sono delle cose assolutamente normale bene cominciamo e vi presento cristina sombera la nostra presentatrice che adesso vi racconterà delle cose buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia e grazie a slavi gehring la nostra organizzatrice e presidente del bellissimo centro intuizia un'accademia internazionale di parapsicologia applicata e di ricerca internazionale di parapsicologia con sede a mendrisio in svizzera grazie prima di dare la parola al primo relatore di questo evento desidero informarvi come sarà strutturata questa giornata particolare in diretta a porte chiuse ringraziamo tantissimo intanto il canale focus per la gentile ospitalità e disponibilità di questa manifestazione dunque il programma sarà strutturato così ogni singolo relatore ospite di oggi avrà a disposizione anziché un'ora come da programma precedente 45 minuti in tutto soltanto la dimostrazione pubblica finale avrà più tempo a disposizione perché incontrerete due relatori che lavorano anche tre magari può essere sempre qualche bella sorpresa all'ultimo passate così i 45 minuti a disposizione di ogni relatore ci saranno 10 minuti di pausa noi metteremo della musica in sottofondo in questo periodo di tempo cosicché voi pubblico che ci seguite da casa sapete che la diretta è sempre attiva evitando così di fare un'altra iscrizione per accedere un'altra cosa importante per voi che ci seguite da casa alla diretta se desiderate interagire con il relatore o polli delle domande per favore vi preghiamo di non farlo prima dei primi 30 minuti per parlare con il relatore di turno avete a disposizione gli ultimi 15 minuti vi diciamo quando potete fare le domande perché così almeno il relatore riesce a dare bene la sua conferenza senza essere interrotto dalle domande sia comunque potete mandare i saluti ci faranno sicuramente piacere il convegno di oggi viene trasmesso in diretta focus da trieste vi ricordiamo che si svolge a porte chiuse e che sono presenti in questa sede solamente i relatori e lo staff organizzativo ringraziamo tutte le persone che ci seguono adesso e tutti quelli che si erano iscritti numerosi a partecipare a questo convegno in maniera così positiva e fiduciosa visto il periodo che sta passando colgo l'occasione anche di ringraziare i relatori presenti e non per il loro supporto energetico nell'iniziativa di una nuova modalità dell'evento convegno di oggi e inoltre gli operatori delle sessioni private che non hanno potuto partecipare e non hanno così dimostrato o messo in pratica le loro capacità siamo molto dispiaciuti di questo ma a tutti voi a tutti loro vogliamo dire un arrivederci al prossimo evento sentieri infiniti quando ora ci vedremo assolutamente sì grazie a tutti e ora vado a presentare il primo relatore di oggi lui è giampiero abate lascio il posto a dottor abate buongiorno a tutti e benvenuto grazie allora giampiero è nato a udine cresciuto a genova risiede a villac laureato in fisica a padova si è in seguito diplomato in teologia musicista e compositore ha intrapreso una serie di ricerche di ricerche sull'antica cabala tenendo corsi in varie parti in italia ha pubblicato diversi libri e ha svelato per primo al mondo un segreto della cabala c'è la modalità di calcolo del proprio nome di dio dell'angelo e diavolo custode e di conseguenza del vero segno zodiacale di appartenenza ha creato l'accademia di numerologia sacra che diploma esperti nelle cinque numerologie tiene incontri e conferenze per spiegare cambiamenti in atto a ogni livello nel suo sito www.dottabate.it e su facebook pubblica regolarmente aggiornamenti sull'evoluzione in corso giampiero abate ci parlerà di salvezza globale e cambiamenti in atto prego grazie mi dispiace per voi perché non potrete vedere perfettamente le slide che ho preparato ma non importa cerchiamo perlomeno le figure riuscirete a intravederle partiamo subito con questa sala dove ci sono pochi corpi che circolano ma tantissime anime che sono presenti quindi lo vediamo lo stesso a questo grande pubblico di fronte a noi e parliamo innanzitutto del fatto che io vi chiedo una particolare attenzione perché molte delle parole che utilizzerò in senso comune hanno un significato diverso che in fisica e proprio parto dal primo esempio che è questo è quello che riguarda la materia noi quando pensiamo alla materia pensiamo a qualcosa di solido oppure anche nella materia compresa la luce le particelle e così via che anche se non la vediamo invece quel tipo di materia è solo il 5 per cento della materia la materia ha un altro 25 per cento che è materia oscura non oscura perché non sappiamo di cosa stiamo parlando ma oscura perché non è visibile con la luce non è visibile con gli strumenti ordinari di misura l'abbiamo potuto misurare solamente in una maniera particolarissima a livello del cosmo e abbiamo scoperto che tutto l'universo è pieno di questo 25 per cento di materia che non vediamo ordinariamente e poi c'è un 70 per cento di energia oscura tanto energia e materia sono la stessa cosa quindi questa è la materia non quello che pensa la nostra testa questa è la vera materia e oltre questo dobbiamo tenere presente che ormai nella fisica sempre di più si sta facendo strada l'idea di un campo informazionale un campo informazionale che collega tutto che è distribuito ovunque e ed è quello che contiene tutte le informazioni attenzione che le informazioni non sono i dati e quindi la nostra mente non è in grado di elaborare informazioni ovvero detto in altri termini la nostra mente non è in grado di pensare perché il pensiero è informazione quindi la nostra mente è come un computer l'abbiamo fatto il computer a immagine e somiglianza della nostra mente la mente elabora dati ma i dati non sono le informazioni tutto è collegato il fisico massimo corbucci ha scoperto questo vuoto quanto meccanico che è a livello degli atomi quindi il nostro collegamento con l'universo è a livello atomico sta all'interno degli atomi ma cosa significa questo significa anche che non siamo solo collegati noi ma tutto perché qualsiasi cosa che sia fatta di atomi è collegata a tutto il resto delle altre cose allora la fisica teorica una volta ci diceva che è l'opposto di quello che si dice adesso perché in realtà tutto si crea e tutto si distrugge in ogni miliardesimo di miliardi di miliardi di miliardesimo di secondo 10 alla meno 17 secondi ha detto gregory grammo e io l'ho dimostrato con un paper scientifico sulla base della costante di planche dell'atomo dell'indrogeno quindi il nostro corpo materiale si richiede a miliardi di miliardi di miliardi di volte al secondo e miliardi di miliardi di miliardi di volte al secondo sparisce nel nulla è un processo continuo allora quando vogliamo capire come mai la realtà invece ci appare stabile come mai le cose ai nostri occhi non cambiano come mai una sedia che sta lì continua a stare lì è perché questo è il frutto della coscienza collettiva e in effetti il creatore crea tutto sempre nella norma ma noi no quindi noi abbiamo una distribuzione degli eventi che è randomica che è disordinata l'ideale sarebbe invece ritornare nella norma divina e questo si chiama il pilotaggio della realtà allora la fisica ci dice che ci sono queste quattro equazioni cosa ci dicono queste quattro equazioni messe tutte in riferimento all'energia che energia massa vibrazione quantità di calore e velocità di percezione dei dati sono sempre tutti uguali tra di loro all'energia e quindi chiaramente non c'è differenza fra queste cose allora esistono le energie sottili sì esistono ma va rivisto completamente il concetto di energie sottili perché le energie sottili sono un pezzo di materia che si può anche fotografare questa che vedete alle mie spalle è l'immagine delle mie energie fondamentalmente riprese mentre sono su un palco in un convegno dei miei di numerologia e vedete che accanto a me c'è una persona invece che ha un campo molto più piccolo perché io gli ho fatto una domanda che l'ha messo in imbarazzo e allora cosa succede succede che io a questo punto inizio a parlargli a cercare di rincuorarlo e questa persona vedete il suo campo inizia a crescere però vedete sul mio plesso solare è cambiato il colore è diventato blu cos'è quello c'è un nome in italiano si chiama amore io sto mandandogli amore e questo amore adesso si muove e lo va a raggiungere attiva il suo campo che è diventato verde e vedete queste sono le energie sottili si misurano si possono fotografare si possono vedere allora un altro elemento importante per capire quello che sta succedendo è che noi abbiamo tre dna in ogni cellula in tutte le cellule ci sono tre dna che sono stati chiamati a b e z i due dna a e b girano in maniera come l'orologio quindi in senso orario lo z dna gira in maniera inversa questo da un punto di vista della fisica significa che l'a e il b dna seguono il tempo ordinario lo z dna è un dna che arriva dal futuro e quindi questa è una idea un po' strana per la nostra mente ma ormai è stata dimostrata scientificamente non solo noi siamo principalmente acqua e l'acqua è anche l'elemento che ha tutta la memoria informazionale che ci mette in relazione con tutto il resto del mondo quindi è una cosa importantissima l'acqua oltretutto memorizza le cose l'acqua viene influenzata da un mare di cose che adesso non posso elencarvi tutte perché non ho il tempo per farlo però abbiamo tre acque dentro il nostro organismo abbiamo un'acqua normale l'h2o la molecola tipica dell'acqua liquida che va in giro per il nostro corpo con il sangue con queste cose qua poi c'è un'acqua dentro le cellule anche lei h2o liquida ma c'è una terza acqua che l'h3o2 questa è una molecola particolare dell'acqua è l'acqua in uno stato che il professor Pollock aveva chiamato gelatinoso perché lui non era un fisico era un biologo quindi non riusciva a capire in realtà quell'acqua è un'acqua plasmatica ed è l'acqua che avvolge tutto quanto il dna allora quest'acqua l'h3o2 sta proprio nelle zone di esclusione quelle attorno al dna e la troviamo nelle acque di luce la troviamo nelle acque mariane e lei che incapsula ad esempio i batteri i virus per cui fanno sì che nelle vasche di lourde le persone non si ammalano proprio perché le vasche di lourde sono piene di h3o2 che impedisce ai virus e ai batteri di operare e altre cose molto simpatiche di questo tipo però quest'acqua non è solo sensibile ad esempio la luce laser i russi stanno usando il laser per correggere il dna delle persone senza nessun intervento interiore però è sensibile anche alle nostre parole è sensibile alla musica è sensibile a molte cose e questa bisogna avere una visione tridimensionale perché dal punto di vista piano non è possibile rappresentare l'h3o2 un risultato importantissimo dell'anno scorso 2019 il dualismo non è solo delle particelle una gran parte dei fisici dicevano ah il discorso della forma d'onda che si trasforma in materia e della materia che è una forma d'onda riguarda solo le particelle non riguarda la materia e invece no nel 2019 abbiamo trovato delle proteine che stavano facendo questo fenomeno e più avanti adesso abbiamo trovato addirittura dei pezzi di materia che spariscono nel nulla e che ricompaiono dal nulla proprio grazie al fenomeno ondulatorio tipico e adesso parlo un po' di tutti i cambiamenti in atto e farò una carrellata veloce perché non ho il tempo di entrare nei vari cambiamenti uno è ci sono delle frequenze che evolgono tutta la terra come se la terra rispondesse come un tamburo ciò che la scuote sono i fulmini queste si chiamano frequenze Schumann le frequenze Schumann continuano a aumentare sono impazzite e però c'è un piccolo problema che le frequenze Schumann sono collegate al nostro cervello sono il nostro orologio quindi se cambiano le frequenze Schumann cambia la nostra percezione del tempo questo è uno dei motivi per i quali se oggi dormiamo otto ore per la nostra testa non abbiamo dormito otto ore ma ne abbiamo dormito solo cinque e quindi poi ci svegliamo stanchi perché in realtà la nostra testa a causa della frequenza Schumann ha contato cinque ore il nostro orologio però ne ha contate otto un altro cambiamento è la magnetosfera la magnetosfera è questo enorme campo magnetico che avvolge la terra la magnetosfera devia i raggi di luce deviando i raggi di luce cosa combina? combina che noi non vediamo il cielo così com'è non vediamo le stelle nella loro posizione man mano che la magnetosfera cambia e sta diminuendo vedremo sempre di più il cielo reale e cosa succederà fra un po' è che questo cambiamento diventerà talmente veloce esponenziale che noi lo vedremo con gli occhi quale sarà l'illusione ottica quello che le stelle stanno candendo sulla terra ecco perché i nuovi cieli ecco perché vedrete le stelle cadere sul vedete le stelle cadere non perché cadono sul serio ma semplicemente perché la magnetosfera non devia più i raggi della luce un altro elemento fondamentale è che l'antimateria sta aumentando moltissimo su tutta la terra quindi anche dentro il nostro organismo anche dentro la nostra testa attenzione l'antimateria è una materia che viene dal futuro e va verso il passato l'antimateria è una materia che cade verso l'alto non verso il basso perché risponde all'antigravità cosa succede se l'antimateria aumenta? come sta aumentando? chi lo sa? non lo sa nessuno è un fenomeno nuovo dopodiché ci sono anche i raggi gamma terrestri che stanno aumentando e sono aumentati tantissimo e ovviamente questi influenzano il nostro corpo e poi sono aumentati anche i raggi cosmici che arrivano dal cosmo e le tempeste solari del sole e poi abbiamo scoperto questi raggi gamma che sono questi gamma flash che sono diciamo come se fossero dei fulmini solo che ce n'è migliaia di migliaia al secondo e li vedono i satelliti dall'esterno della terra noi con i nostri occhi non li possiamo vedere perché sono appunto a livello dei raggi gamma quindi analoghi ai raggi X di quando andiamo in ospedale a fare una radiografia non li vediamo con gli occhi ma ci sono invece e ovviamente influenzano tutto e non solo abbiamo scoperto che la terra non è per niente rotonda cioè è il solito discorso della materia di prima solo quel 5% della materia della terra è rotondo e sta in un certo punto rispetto a tutta la materia della terra che ha una forma come un feto e quindi è una forma totalmente diversa da quella che noi conosciamo e poi il campo magnetico terrestre che continua a diminuire ogni tanto sparisce diventa zero non solo il suo asse continua a spostarsi sta muovendosi sempre più velocemente ma non solo si è spostato anche l'asse di rotazione della terra che continua a muoversi ha cambiato direzione adesso sta andando verso fondamentalmente la Siberia e a questo vi dico una piccola storia lina velocemente alcuni anni fa alcuni indiani pelle rosse andarono da Obama e dissero dobbiamo spostare la nostra riserva perché il sole non è più dov'è e quindi dobbiamo muoverci in un altro posto e ovviamente questo scatenò una campagna di ridicolizzazione di questi poveri pelle rossa su tutta la stampa americana peccato che adesso che è venuta fuori Greta allora per cercare di bloccare tutto questo fenomeno la nasa ha tirato fuori un documento nel quale c'è scritto eh no il cambiamento climatico non è frutto delle attività dell'uomo ma è frutto dello spostamento dell'asse di rotazione della terra e ha tirato fuori i documenti di quell'epoca che la nasa aveva tenuto nascosti ovviamente pelle rosse avevano ragione abbiamo misurato sempre nell'anno scorso 2019 che effettivamente esiste un tempo inverso un tempo che va dal futuro verso il passato lo sapevamo già ma adesso abbiamo le evidenze scientifiche abbiamo le prove di laboratorio fatte direttamente sulla materia quindi sappiamo che ci sono tanti tempi non solo sappiamo anche un'altra cosa che l'umanità si sta dividendo in due in due specie diverse si chiama speciazione l'abbiamo vista negli animali l'abbiamo vista nelle piante adesso per la prima volta la vediamo nel genere umano il genere umano si sta dividendo in due non sto parlando di omini verdi che compariranno no no parlo proprio di due specie diverse dell'uomo e peraltro che diventeranno incompatibili allora a questo punto uno dice va beh ma allora cos'è questo cambiamento è il cambiamento è un mare di cose diverse come vedete non è facile capirlo perché coinvolge energie coinvolge la struttura della materia coinvolge la struttura della terra coinvolge tantissime cose troppe cose e ci sono tanti tempi attorno a noi noi dobbiamo abbandonare l'idea che c'è un tempo solo no tant'è vero che l'orologio atomico di Parigi lo dobbiamo regolare ogni anno perché va fuori tempo eppure il sistema di migliore di misura ha una precisione di miliardesimi di miliardesimi di secondo ma proprio per questo va fuori tempo perché perché ad esempio il tempo della terra non è quello dei nostri orologi il tempo delle nostre cellule non è quello dei nostri orologi allora noi viviamo inseriti in tanti tempi e questa è l'equazione del tempo che ho trovato che mi permette di calcolare la parabola del tempo perché il tempo va in maniera parabolica come vedete c'è una variabile x che determina poi anche il valore di y perché x più y deve fare 84 allora potremmo fare tutto l'escursus un solo flash nel 486 a.C. siddhartha kutama cioè il Buddha lascia la terra però dice prima di andare via guardate che io ritorno fra 500 anni aspettatevi è 500 anni dopo nel 6 avanti Cristo che è esattamente la data di nascita di Gesù Gesù nasce quindi chiaramente Gesù e il Buddha sono la stessa persona così tanto per vedere come poi dopo le religioni ci hanno diviso quando invece è tutto unitario ma saltiamo a x uguale 38 x uguale 38 da come risultato nella mia equazione nel 2012 che effettivamente è l'anno zero del calendario Maia ed è anche un anno importante riconfermato che l'anno zero da un'altra equazione che ho trovato ma è l'anno previsto da nostra Damos confermato dai canali di Zazidoni di Crayon confermato da un mare di fenomeni astronomici il cielo la croce nel cielo l'allineamento sole venere terra e tante altre cose che adesso non posso entrare facciamo un passo avanti da x 38 andiamo a x 39 cosa troviamo il 2019 allora l'anno dopo il 2012 non è il 2013 l'anno dopo il 2012 è l'anno 2019 il tempo non corre come i nostri orologi il tempo corre in un'altra maniera allora l'anno 2019 è importantissimo perché è l'anno zero della speciazione il punto dove c'è proprio il distacco delle due specie è quello dell'espansione della consapevolezza a livello mondiale è l'inizio del periodo del cosiddetto sacrificio è l'anno nel quale abbiamo fatto le più grandi scoperte dal punto di vista scientifico l'anno dopo x 40 è il 2024 vedete dal 2019 si salta al 2024 ed è l'anno nel quale ci sarà l'inversione del campo magnetico del sole ma siccome adesso a causa della dimissione della magnetosfera il campo magnetico del sole si è collegato a quello della terra si invertirà anche il campo magnetico della terra e ancora Ettore Majorana il più grande fisico e probabilmente la più grande menta dell'anno del secolo scorso aveva previsto con i suoi calcoli matematici che il 2024 è l'anno veramente del non ritorno dove non possiamo più farci niente o almeno questo da un punto di vista scientifico rispetto a quello che abbiamo combinato quindi è l'anno dove inizieranno i black out delle comunicazioni è l'anno dove io prevedo il crollo del sistema economico è l'anno dove Majorana ha detto che ci saranno avventi dai 400 ai 500 km all'ora in Italia anno dopo 2027 andiamo al 2027 che è l'inizio dei fenomeni del cambiamento geofisico e la separazione è il momento della non si torna più indietro anche nel processo di speciazione io ho messo un collegamento alle player vedico un po' di punti interrogativi non ne sono sicuro è un'ipotesi e siamo all'ultimo anno perché quando x vale 42 anche y vale 42 oltre non si va è il 2028 non si va oltre perché finisce il mondo assolutamente no non si va oltre in questa parabola del tempo vuol dire che di qui parte una nuova parabola del tempo siamo entrati è il punto di passaggio alla nuova era e questo è il punto proprio di salto fondamentalmente tutto questo e dipende da noi però attenzione è collegato noi a quella che prima ho chiamato coscienza collettiva e quindi dipende da noi individualmente ma attenzione che noi individualmente per quanto grandi e potenti siamo non possiamo fare nulla senza gli altri è il motivo per il quale non ci sarà nessun salvatore non ci sarà nessuno che potrà salvare il mondo perché individualmente questo non è possibile sarebbe una violazione del libero arbitrio sarebbe una violazione delle leggi divine neanche il creatore in persona può fare questo perché sarebbe contro quello che lui vuole e quindi noi cosa dobbiamo fare beh innanzitutto attivare il divino che è dentro di noi io lo faccio ad esempio attraverso le parole i comandi locali io comando alle mie cellule comandando alle mie cellule ho gettato via gli occhiali nell'arco di tre ore io ero uno che era un classico presbite con degli occhiali molto grossi e adesso ci vedo perfettamente comandando alle cellule ho cambiato il colore dei miei capelli che stanno diventando sempre più neri da quando erano completamente bianchi e avanti così via questa cosa la possiamo fare anche con tutto il resto quindi possiamo con l'immaginazione con la forza pensiero cambiare la realtà e possiamo evitare quindi la catastrofe che abbiamo costruito con le nostre azioni che la scienza ci dice guardate che state andando incontro a questo beh abbiamo capito che anche se fermassimo tutto l'inquinamento ormai siamo oltre il punto di non ritorno ce l'ha detto Ettore Mariana tanti tanti anni fa e per questo motivo anche i politici non possono dare delle soluzioni perché se non ci sono soluzioni scientifiche cosa fanno quei poveri politici scendere in piazza per dimostrare contro l'inquinamento è importante è un atto di civiltà ma non genera soluzioni purtroppo non può generare nessuna soluzione e allora c'è una soluzione? sì c'è dobbiamo partire dalla coscienza la coscienza è quella che crea gli eventi però c'è qualcosa che divide gli eventi fra problemi e opportunità chi fa questa divisione? la nostra mente è la nostra mente che elabora dati e che divide quindi gli eventi fra quelli che sono problemi e quelle che sono opportunità e quindi c'è una coscienza collettiva che crea gli eventi collettivi e poi c'è una coscienza individuale che crea eventi individuali e in mezzo cosa ci sta? la nostra mente la nostra mente crea qualcosa? no, la nostra mente non crea assolutamente nulla la nostra mente però ha il diritto di vetto se la vostra mente vi dice no, questo non è vero potete fare tutte le meditazioni di questo mondo ma non riuscirete a ottenere nessun risultato la mente non crea niente ma deve essere convinta deve vincere insieme a noi convincere la mente è fondamentale perché ha questo diritto di vetto che impedisce ogni fenomeno e allora cosa dobbiamo fare per salvare la Terra e di conseguenza salvare anche la nostra specie e salvare noi stessi? dobbiamo fare qualcosa? no, non dobbiamo fare nulla prendendo alla lettera la frase perché in realtà dobbiamo essere tutto dipende da come siamo da quello che siamo non da quello che abbiamo fatto o che faremo è la parabola delle nozze del figlio del Re a quel tavolo ci stanno i buoni e i cattivi non ci stanno solo i buoni la valutazione non è su quello che hai fatto la valutazione è su quello che sei sei uno con la veste bianca? benvenuto al tavolo sei uno che non ha messo la veste della festa? fuori di qua perché non sei degno di stare al tavolo allora non si salveranno i tiepidi perché si salveranno i buoni e i cattivi ma quelli che non si schierano non si salveranno è un problema interiore allora la soluzione è legata agli insegnamenti e alle tecnologie dell'essere non le tecnologie del fare invece tutti noi siamo molto attratti dalle tecnologie del fare ci siamo soddisfatti quando abbiamo fatto qualcosa invece non è così e i coach? cosa ci insegnano la maggior parte dei coach? ah fai questo fai quest'altro individua il tuo obiettivo perseguilo con tutta la forza di te stesso fai 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 io sono uno che dice no! devi essere devi essere devi essere felice devi essere uno che fa festa devi essere uno che ama devi essere contento del mondo devi essere contento anche dell'attuale situazione perché per quanto sia difficile la situazione ricordati che il problema è la tua mente e quindi qualsiasi situazione per quanto sia difficile la puoi leggere in un'altra maniera puoi vedere tutta la bellezza che c'è dietro a certe cose che la tua mente ti sta proponendo in maniera negativa e allora come si fa? e si usano le mie tecnologie usate a quelle di Grammoy cioè si deve pilotare la creazione della realtà vogliamo una realtà diversa? bene, facciamola realizziamola come la realizziamo? con la forza pensiero si può fare? e beh sì dal punto di vista della massa critica matematicamente è possibile perché la massa critica è la ormai l'abbiamo scoperta scientificamente è la radice quadrata delle persone coinvolte nel fenomeno diviso 100 più 1 quindi se prendiamo la popolazione italiana 60 milioni di abitanti quante persone ci servono per cambiare la situazione in Italia? 776 776 uno direbbe allora a questo punto eh ma è così facile? eh no non è così facile ma è possibile fisicamente perché è possibile? è perché con la creazione della realtà non solo cambiamo la realtà istantaneamente ma cambiamo anche tutta la realtà passata e cambiamo anche tutta la realtà futura e quindi abbiamo cambiato tutta la realtà ma non è facile è possibile ma non è facile eh perché non è facile? perché come dico io bisogna non solo montare nella stessa barca non solo remare nella stessa direzione ma remare tutti quanti in sincronia e imparare a remare in sincronia è una scuola durissima è una scuola che io sto cercando di insegnare a tutti ma è estremamente difficile non è facile i militari lo stanno già facendo i militari stanno già facendo la guerra di pensiero hanno dei gruppi di pensiero ma questi gruppi addirittura non si sposano sono persone isolate che vivono in maniera isolata e che passano tutta la giornata ad addestrarsi a utilizzare il pensiero per creare la realtà quindi non è per niente una cosa facile però si può fare e a questo punto abbiamo lanciato un'importante azione per la salvezza globale dove io sarò presente fisicamente di persona se passa questa situazione a Roma, a Milano e a Catania e inoltre abbiamo organizzato un grande webinar per il 19 di marzo alle ore 19 se volete notizie su queste cose cercate me cercatevi dottor Abbate in rete cercate nel mio sito in facebook mi trovate e ci sono ok ci sono domande? no ok spero di aver rispettato i tempi ok abbiamo un po' di delay tecnico nel senso che ovviamente se voi postate delle domande a noi non arrivano immediatamente ci arrivano un po' di tempo dopo ovviamente per me la cosa più importante di tutta questa situazione ok di questo Abajur voi direte cosa c'entra l'Abajur? l'Abajur è il nome con il quale nel canale scientifico biologico che io seguo hanno chiamato questo virus per non nominarlo per non continuare a usare la questa parola visto che la parola crea bene allora non lo chiamiamo più con il suo nome lo chiamiamo Abajur che così almeno a questo punto creiamo meno danni e sicuramente voi capite che questo discorso della Abajur è un discorso molto importante molto severo molto più severo di quello che la maggior parte delle persone pensa sicuramente ci sono delle notizie che non vengono divulgate e che volutamente non vengono divulgate proprio perché c'è già tutta questa grande paura e non si vuole trasformare questa paura in panico però io vi dico rispettate perfettamente quelle direttive che sono state date è una cosa molto seria è una cosa molto importante quindi rispettate perfettamente quello che il Ministero della Sanità sta dicendo Deborah chiede come si fa a ordinare al proprio corpo di guarire varie malattie è un comando quindi si tratta di trovare il comando che risuona con le tue cellule quindi non c'è una frase matica non esiste quello che deve cambiare è il tuo stato dell'essere quindi sei tu che devi da dentro trovare qual è il giusto comando per le tue cellule e questo permetterà alle cellule di cambiare il loro funzionamento io ho un mio comando ad esempio che continuo a dire tutte le sere ma è valido per me l'ho trovato lo potete trovare nel mio libro i dodici strati dell'immortalità quindi se andate a cercare su Feltrinelli IBS trovate il mio libro e lì dentro c'è scritto anche i comandi che io do però non sono universali non sono magici non c'è nessuna magia alla fine siete voi che state operando e quindi per le vostre cellule ci vuole un vostro comando Jimmy chiede di quale mente stiamo parlando nello specifico quella razionale emisfero sinistro dato che il fattore critico ha diritto di veto sì ma la mente inconscia dell'emisfero destro è creativa e come dottor Abate la mente non crea nel senso che è una ricetrasmittente per cui come diceva Terla riceve le informazioni dei piani dimensionali è bene specificarlo se no si rischia di dare informazioni rigide limitando le capacità delle persone allora la mente è tutta razionale scientificamente non ha nessun fondamento dire che la mente è divisa in due lobby uno destro e uno sinistro che sono uno razionale e uno no sbagliato no la scienza ci dice un'altra cosa la scienza ci dice che il lobo destro e il lobo sinistro hanno due modalità di funzionamento diverso allora sono entrambi razionali solo che uno funziona aggregando singoli elementi quindi l'opera del lobo sinistro è quella di collezionare singoli dati come se fossero tanti tasselli di un puzzle poi li incastra tutti tra di loro e alla fine quando riesce a intravedere qual è l'immagine che salta fuori dice ah allora questa è l'idea l'altra parte c'è la parte destra del nostro cervello invece cosa fa tutto l'opposto non guarda i dettagli non conosce i dettagli non gliene porta niente del dettaglio guarda l'immagine complessiva e si chiede ok questa immagine complessiva com'è composta ecco queste sono due modalità di analisi diverse semplicemente ma non è che la nostra testa appunto una parte collegata è una scollegata se parliamo di collegamento vi ricordo quello che ho detto prima noi siamo collegati a livello atomico quindi tutta la nostra mente è collegata a livello atomico ma esattamente come il dito mignolo non c'è nessuna differenza oltretutto di centri elaborativi ne abbiamo tantissimi perché non c'è solo la mente ma ci c'è tutto il sistema elaborativo ad esempio della colonna vertebrale dove oltretutto la massa bianca è alla rovescia rispetto alla massa grigia perché la massa grigia è interna e la bianca è esterna quando nel nostro cervello è esattamente l'opposto ma poi abbiamo tutti gli altri centri di elaborazione dati il centro di elaborazione del cuore del fegato dello stomaco sono tutti centri che ormai abbiamo scoperto e ci sono anche delle cose particolari che l'anno scorso abbiamo scoperto ad esempio il centro di elaborazione del fegato ha flussi non identici dalla mente al fegato e dal fegato alla mente nel senso che le informazioni che partono dalla pancia e arrivano alla mente sono molte di più rispetto alle informazioni che dalla mente arrivano alla pancia è come se la pancia comandasse alla mente e non il viceversa e io che ho fatto una lunga carriera da imprenditore che ho vissuto in mezzo imprenditori che ho fatto il consulente aziendale poi dopo aver fatto l'imprenditore so che la maggior parte degli imprenditori di successo ragionano di pancia non ragionano di mente quindi il discorso come vedete è molto più articolato e complesso e non può essere banalizzato e semplificato sempre Gini scrive mi può spiegare il fenomeno dei sogni e il simbolismo se la mente è tutta razionale oppure il fenomeno dell'ipnosi allora i sogni sono un linguaggio simbolico certamente sì ma noi siamo abituati a vivere in mezzo ai simboli perché la stessa cosa riguarda ad esempio i numeri io che faccio numerologia i numeri cosa sono? delle quantità matematiche? assolutamente no i numeri sono dei simboli tant'è vero che se qualcuno mi chiede ma cosa significa il numero 27 io gli dico non significa nulla perché è un simbolo quindi se non mi dici dove l'hai visto questo simbolo io non ti posso dire che significato aveva i sogni sono dei meccanismi che certamente funzionano dopodichè ho detto prima le informazioni non sono energia le informazioni sono codificate dentro i dati allora a noi possono arrivare delle informazioni certo che ci arrivano continuamente noi siamo connessi con tutto l'universo per forza che ci arrivano un mare di informazioni non solo ci arrivano informazioni dal passato ma anche dal futuro perché? è perché siamo immersi in tanti tempi l'ho detto prima non è vero che il tempo va solo in un verso va anche nel verso opposto quindi le informazioni come ci arrivano dal passato ci arrivano anche dal futuro ma poi queste informazioni come si trasformano? in dati dentro la nostra testa e i dati nel caso del sogno chi sono? i personaggi che la nostra testa crea all'interno del sogno le immagini che crea dentro il sogno cioè la nostra testa alla fine riceve queste informazioni e le trasforma in un dato cinematografico il film del nostro sogno dottore ma se è simbolico quindi analogico non è razionale quindi la mente almeno l'emisfero dentro non è razionale come dice lei sempre Gini scrive no no forse non è chiaro cosa significa essere razionale ok la nostra mente è molto razionale non solo è talmente razionale che stiamo costruendo un catalogo delle idee a livello mondiale perché? perché con la risonanza magnetica nucleare possiamo tranquillamente capire che cosa la nostra mente ad esempio sta sognando oppure sta immaginando oppure sta vedendo semplicemente guardando la risonanza perché se io sto sognando una mela o sto vedendo una mela io ho sempre lo stesso segnale a livello mentale in tutto il mondo a prescindere dalle razze e si sta facendo addirittura un catalogo di questo Eleonora scrive ipnosi e sogni emergono quando la mente razionale è in onde differenti di concentrazione che alterano la percezione razionale certo certamente sì non è ed è anche per questo che poi dopo esiste la meditazione tra le altre cose questo continuo sempre a ripeterlo ricordatevi che il momento nel quale la mente razionale è più attiva e sta facendo il massimo di attività è durante la meditazione quindi esattamente all'opposto di quello che viene detto le analisi sono chiarissime la massima attività mentale è quando noi siamo in uno stato di totale rilassamento quando non abbiamo nessun obiettivo quando non stiamo facendo assolutamente niente ed è il mio discorso di prima l'importante è essere non fare vedete la nostra mente va al 100% alla massima velocità quando non stiamo facendo nulla ma siamo invece profondamente siamo siamo collegati dentro di noi siamo in uno stato assoluto di benessere è lo stato della contemplazione è lo stato del massimo che si può raggiungere con la meditazione gufo blu chiede se potrebbe spiegare meglio la differenza tra dato e informazioni per favore ok le informazioni non sono energia quindi non sono qualcosa che ha a che fare con l'energia e siccome l'energia è collegata alla materia vuol dire che le informazioni non sono materia il che significa che le informazioni non si possono spedire non si possono trasferire non viaggiano non hanno una velocità sono istantanee perché le informazioni sono all'interno del campo informazionale che poi è quello attraverso il quale si spiega il fenomeno dell'entanglement per cui se io cambio l'informazione in un punto istantaneamente l'informazione cambia in tutto l'universo perché ogni punto del campo informazionale contiene tutta l'informazione di tutto il campo questo non sarebbe possibile se le informazioni fossero energia tanto meno se fossero materia ma ricordatevi che è uguale mc quadros dove c'è energia c'è per forza materia che è materia è quella che vi ho fatto vedere all'inizio non è detto che sia materia ordinaria può essere un pezzo di materia che non si vede con gli occhi o non si misura con gli strumenti ordinari perché può essere un pezzo di materia oscura però se c'è energia c'è materia allora i dati sono materia i dati sono quelli che è stivo dentro il disco rigido del pc i dati sono quelli cioè i dati sono cose concrete e con cosa funziona la nostra testa con segnali elettrici con le catene neuroniche che sono cose concrete sono dati ora è possibile risalire all'informazione attraverso i dati si ha un patto che si conosca la codifica perché i dati sono sempre delle informazioni codificate in una certa maniera se io prendo una volta c'erano i i dischi i cd rom se io prendevo un cd rom formatato in guin e poi lo e lo mettevo dentro un mac dell'apple il mac dell'apple mi diceva vuoi formatare questo disco? perché lui non riusciva a leggerlo non riusciva a capire le informazioni che erano codificate dentro quel disco perché quel disco era codificato in una maniera sconosciuta per lui allora questa è la stessa nostra situazione quando a noi arrivano dei dati ma noi non capiamo non conosciamo la codifica del dato non riusciamo a ricavare le informazioni quando invece conosciamo la codifica del dato allora è facile per noi risalire dal dato all'informazione che cosa intende lei per razionalità? razionalità razionalità è tutto ciò che in qualche maniera può essere descritto matematicamente se una cosa è razionale significa che posso scrivere delle equazioni posso scrivere delle eguaglianze posso descrivere il fenomeno attraverso la matematica quando una cosa non è razionale non è rappresentabile in maniera matematica alcuni aspettatori ringraziano dicono che l'esposizione è molto interessante mi dispiace appunto che la presentazione ovviamente l'avete vista in questa maniera però magari la vedremo di pubblicarla in qualche maniera nel futuro insomma per renderla disponibile a tutti ok e magari la metterò nella mia pagina come pdf Milena chiede dove troviamo le codifiche le codifiche di cosa? ah dove troviamo ho capito la domanda non capivo la domanda si la codifica dei dati questa in parte la possiamo conoscere quando studiamo ovviamente la nostra conoscenza cresce con lo studio bisogna anche studiare per conoscere c'è un processo che parte dalla conoscenza passa poi attraverso la consapevolezza e arriva poi a livello dell'anima allora quando arriviamo a livello dell'anima possiamo creare la realtà però non possiamo creare una realtà che non conosciamo perché se no come facciamo a immaginarla? come facciamo a lanciare l'intento? e dall'altra parte basta conoscere? no non basta conoscere bisogna anche essere consapevoli delle cose allora ci vuole una interiorizzazione un processo di interiorizzazione e quindi abbiamo il gioco fra questi tre elementi l'anima da una parte la consapevolezza dall'altra la conoscenza dall'altra sono elementi che devono interagire tra di loro Gianluca chiede cosa ne pensa delle altre forme di vita aliene? beh sicuramente beh io sono entrato in contatto con loro quindi ero una persona sono una persona molto scettica se no non avrei fatto fisica resto uno scettico per me è vero solo quello che è dimostrato scientificamente o che ho avuto la possibilità personalmente di verificare visto che la presenza degli alieni l'ho potuta verificare di persona ho dovuto cambiare idea perché prima non ci credevo e adesso invece ci credo e come? so anche per una legge cosmica perché sono entrato in contatto con certe realtà che non esistono gli alieni cattivi c'è un divieto che vieta a chiunque nell'universo di potersi spostare dal suo mondo in altri mondi se non ha raggiunto un certo livello spirituale e quindi quelli che possono circolare per l'universo sono solo quelli che hanno raggiunto quel livello spirituale dall'altra parte so anche però che quello che sta attraversando la grande crisi che sta attraversando tutto il pianeta altri l'hanno già passata quindi ci sono altri pianeti e abitanti di altri pianeti con cui ho avuto contatti che sono già passati attraverso la nostra crisi che mi hanno detto che questo è successo in tante parti dell'universo solo che le cose sono andate in un verso nel verso opposto a seconda di come gli abitanti hanno reagito a questa crisi alcuni pianeti sono morti non c'è più vita in quei pianeti perché purtroppo gli abitanti hanno scelto la morte in altri pianeti invece hanno scelto la vita e questo cosa ha significato? che hanno fatto un passo avanti nella loro evoluzione sono saltati a un livello molto superiore della loro evoluzione per cui oggi ad esempio hanno il pieno controllo del proprio corpo fisico hanno il pieno controllo dello stato dell'essere nessuno è arrivato perché l'evoluzione è un processo infinito è un processo creativo divino e come tale non avrà mai fine però certamente poter fare un salto fuori dalla nostra condizione estremamente limitata e poter arrivare a una situazione dove ad esempio controlliamo perfettamente il nostro organismo e quindi non ci sono più malattie e beh è già un bel salto in avanti Angela chiede senza dire qualcosa sui nostri talenti con i quali veniamo al mondo beh sicuramente noi nasciamo tutti con dei talenti anche perché abbiamo tante cose che sono eredità delle nostre vite precedenti solo che forse se dico quello che penso si scandalizza qualcuno perché sono eredità anche delle nostre vite future ricordatevi il senso del tempo non è solo uno è anche quello opposto allora qual è il problema nel momento in cui io dico che sono eredità delle vite future qualcuno subito dice ma allora è già tutto scritto è già tutto determinato e c'è il libro del fatto dove tutto no assolutamente no perché questa idea nasce dalla idea sbagliata che il tempo va in un verso solo allora con l'idea sbagliata che c'è un passato e che c'è un futuro quando poi dico che il futuro è determinato allora ricavo il risultato sbagliato e cioè che da qualche parte ci deve essere scritto questo futuro invece no è tutto collegato a un processo indeterminato cioè probabilistico davanti a noi il nostro futuro anche quello fra 30 microsecondi è un insieme di probabilità può accadere tutto no non può accadere tutto può accadere ciò che appartiene a quel campo di probabilità quante cose possono accadere miliardi miliardi abbiamo sempre miliardi di opzioni di scelta non infinite limitate ma un numero grandissimo quando una persona dice a da questa situazione non c'è una via di uscita no non credetegli non è vero e non ce n'è una due tre cinque cento ce ne sono milioni di vie di uscita sono i nostri occhi che non riescono a vedere abbiamo l'ultimo minuto per rispondere a mini come possiamo educarci ad essere educarci ad essere vuol dire imparare a non correre imparare a fermarsi imparare a gustare la bellezza di un fiore imparare a trovare il tempo per ascoltare un po' di buona musica imparare a saper godere il piacere di lettere un libro e leggere il libro facendolo vivere dentro di sé essere si impara a essere anche facendo all'amore che è un punto fondamentale amando avendo la capacità innanzitutto di amare se stessi di toglierci questa idea totalmente errata che noi dobbiamo non essere egoisti e quindi dobbiamo sempre pensare agli altri fare qualcosa per gli altri aiutare gli altri essere disponibile per gli altri no prima ci siamo noi poi tutto il resto tu non puoi dare qualcosa che non hai tu non puoi amare se non ti ami quindi il primo punto è si te stesso pensa a te stesso mettiti nelle condizioni di essere te stesso di sfruttare tutti i tuoi talenti tutte le tue esperienze tutte le tue conoscenze sia quelle che sono ormai consapevoli ma anche quelle delle quali non hai ancora consapevolezza che ti arriveranno a un certo punto della vita ti si fioriscono davanti come i fiori ok? allora questo è essere questa è la cosa importante da fare dopodichè è importante anche leggere studiare e tutto il resto perché no? certamente sì ma la prima cosa è amare se stesso grazie 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 a te e grazie a tutta l'organizzazione che mi ha invitato qua a parlare oggi e grazie a voi che ci vedete connessi a me grazie grazie allora cari amici adesso abbiamo dieci minuti di pausa circa avremo come vi abbiamo spiegato un sottofondo musicale per questo periodo di tempo ci tengo anche a ringraziare le persone che sono qui con noi alla Daniela Pasino che è alla videocamera che fa parte dello staff ciao Daniela e alla Cristina Cavalleri che lei legge le vostre domande in diretta bene ci vediamo tra dieci minuti circa dopo la pausa con l'intervento della prossima regliatrice la Paola Caneo grazie a più tardi non grazie non är Grazie a tutti. 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 Non puoi. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie. a tutti. 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 oggi. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 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 per tutti. 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 . . tutti. 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 . 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 Eccoci di nuovo qua con voi cari amici, telespettatori, in diretta dal canale Focus e come vedete si è seduta accanto a me la prossima relatrice, lei la presidente della Star Child Academy e del metodo Contatto Celeste. Diamo il benvenuto oggi a Manuela Giorgi. Grazie. Grazie a voi per questa opportunità. Come la Manuela si è seduta vicino a noi, è arrivato un profumo buonissimo che tra l'altro ha inebriato proprio tutta la sala quindi grazie per i tuoi profumi. Abbiamo gradito tantissimo. E ora passo alla presentazione. La Manuela Giorgi è channeler, esperta in tecniche di guarigione ed equilibrio energetico trans healing, comunicazione con gli animali, regressioni alle vite precedenti. e per chi fosse interessato lo diciamo www.contattoceleste.net. Da anni la Manuela si occupa di ricerca spirituale cercando di portare una visione olistica dell'uomo, fatta di mente, corpo e spirito. Sin da bambina è chiaroveggente, chiarodiente e durante l'adolescenza ha iniziato a interessarsi maggiormente a questo mondo cosiddetto parallelo. Il suo compito è diffondere il più possibile la verità sulla vita dopo la vita e di far conoscere la bellezza della medianità a chi ancora non ne è consapevole, con l'obiettivo finale di portare risveglio e guarigione nella vita delle persone. Lavora poi con lettura e riequilibrio dell'aura e realizza, lasciatemelo dire, dei bellissimi aurografi, utilizzando il colore con varie tecniche di arte spirituale, tra cui encaustic art. Attraverso questa tecnica il mondo dello spirito, tra guide, maestri spirituali, antenati e animali di potere, si manifesta attraverso volti, immagini antropomorfe, simboli, lettere alfabetiche portando evidenze della vita al di là della morte fisica e messaggi di supporto nel percorso evolutivo di qualsiasi persona. Di fatti, dopo nella dimostrazione pubblica, avrete modo proprio di vedere la Manuela in passione, però ve ne parlerà lei. Oggi la Manuela Giorgi, che è qui con noi, terrà una conferenza sulla medianità e channeling, contatto con il mondo dello spirito. Grazie e benvenuta. Grazie Cristina, grazie. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Vabbè, intanto grazie a Slavi e a tutti gli organizzatori e coloro che hanno contribuito affinché potessimo essere qui con voi oggi, nonostante tutto quello che stiamo vivendo a livello del nostro paese, a livello, insomma, planetario. Quindi è una bellissima opportunità quella di portare questo messaggio del mondo spirituale. Chi è qui con noi già da un po', immagino che ha ascoltato le varie conferenze, gli interventi molto interessanti che hanno portato i miei colleghi, dove in realtà è stato fatto come un percorso, un viaggio, dove partendo appunto dalla Paola che ci ha illustrato, che c'è l'immagine che è ancora qui dietro, cioè quelli che sono i nostri corpi, in realtà ciò che realmente siamo se riusciamo a trascendere la dimensione, la parte più egoica. Per arrivare poi a parlare, il tema della conferenza di oggi è il contatto con il mondo dello spirito. Allora intanto è fondamentale, come dico sempre io, alle persone che si rivolgono a me, sia per un incontro individuale, che partecipano ai miei corsi. Se siamo completamente identificati con la parte egoica, con la nostra parte terrena, se non siamo in contatto con il nostro spirito, è impensabile di riuscire a poter comunicare e contattare il mondo dello spirito, in qualsiasi forma esso sia. Questo perché spesso le persone vengono da me e mi dicono ma come faccio io a comunicare con le mie guide spirituali, con i miei cari, con i trapassati, con... In realtà è un po' come se volessimo fare un viaggio utilizzando uno strumento che non... come se volessimo andare dall'altra parte del continente andandoci, che ne so, in auto. È impossibile, no? Dobbiamo comunque prendere un traghetto, un aereo. È un po' la stessa cosa. Cioè a volte noi vogliamo contattare o comunicare attraverso un veicolo, uno strumento che non è idoneo. Quindi è fondamentale in questo momento di risveglio a livello planetario prendere piena consapevolezza di chi realmente siamo, di quelli che sono i nostri potenziali a livello energetico, a livello spirituale, a livello animico, i cosiddetti corpi sottili. Perché se non c'è una conoscenza e una padronanza di tutto questo è veramente impossibile contattare e comunicare con il mondo dello spirito. Intanto un'altra cosa che ci tenevo a chiarire, per portare proprio anche una conoscenza, anche non a caso il termine, il tema della conferenza è medianità e channeling. Il termine medium significa letteralmente, anche se è un termine inglese, significa canale tramite. La stessa cosa, channeler, il significato è identico. Diciamo che sono spesso utilizzati perché comunque il termine medium è il primo termine che è stato usato nella tradizione anglosassone in tutta quella che è la cultura spiritista e spiritualista inglese. Per coloro, e che ha avuto origine, non so se conoscete tutto il fenomeno delle sorelle Foxe, di queste sorelle che in America iniziarono a ricevere questi messaggi attraverso questi tocchi, come questo bussare, una sorta di alfabeto Morse che queste entità, questi spiriti che erano presenti in questo luogo, utilizzavano per comunicare. E da lì, da lì poi c'è stato tutto un movimento che ha dato origine poi a tutto lo spiritualismo, non so se avete letto i libri di Allan Kardec, il libro degli spiriti, il libro dei medium, dove ci sono stati tanti medium, sia vabbè inglesi, di tutto il mondo, che si sono dedicati a dare evidenza della sopravvivenza della vita al di là della morte fisica. Quindi che cosa vuol dire? Cioè semplicemente se io ho la possibilità di entrare in contatto con uno spirito di un disincarnato, di contattare ad esempio mio padre che è passato, che ha lasciato il corpo fisico ed è, si trova adesso nella dimensione spirituale, ciò mi dà la prova che comunque la morte in realtà è semplicemente un passaggio, un passaggio da una dimensione, da uno stato, da una frequenza, da un livello a un altro. E quindi questo è stato tutto ciò che hanno fatto i medium e che hanno portato come missione, come compito negli anni precedenti. C'è stato poi a partire da, in questo ultimo millennio, soprattutto negli utopold, due, il cosiddetto momento della fine del mondo, quello di cui parlavano noi mai al 2012. Da quel momento in poi è entrata nell'uso comune il termine di Chandler, o di queste persone in realtà che canalizzavano e portavano questi messaggi e questi insegnamenti da parte di entità e di maestri spirituali che ci davano tutta una serie di informazioni per poter meglio vivere tutto questo cambiamento nel quale adesso, come hanno detto prima i nostri miei colleghi, siamo proprio nel pieno e soprattutto ci aiutavano in questo processo di risveglio. Quindi che cosa è cambiato da quella che era la medianità e quello che adesso, anch'io nelle mie sedute di channeling faccio? È cambiato il tipo, intanto il tipo di messaggi che arrivano, il tipo di entità e di esseri di luce, di maestri che si presentano a portare un messaggio alla persona, proprio perché in questo momento per la nostra evoluzione, per quello che stiamo vivendo sulla Terra, c'è bisogno di altro. Cioè questo per il nostro massimo bene, per la nostra evoluzione, è un po' come se credo che il fatto che la morte è soltanto un passaggio di stato sia un qualcosa che dovrebbe quantomeno essere scontato per tutti, a meno che non siamo completamente ancora identificati con questa parte qua. È la serie dell'Io in cui io, Manuela Giorgi, nasco, faccio un percorso in questa vita e poi completato questo percorso per una malattia o per tutto quello che sarà, muoio. Quindi la morte, cioè viene vista come la fine, ma in realtà la fine è di questo, ma comprendete che se io sono completamente identificato solo con quello, è logico che da lì subentrano tutti gli attaccamenti, tutte le paure legate alla morte, a lasciare andare quelle che sono tutto ciò che io ho sperimentato su questa dimensione, quindi le persone a cui voglio bene, perché la vedo comunque come la fine, no? Con qualcosa che termina e quindi mi pongo nei confronti della morte in un atteggiamento sicuramente di rifiuto. Una frase che spesso viene detta, la morte, cioè in realtà il percorso spirituale serve a far sì che quando arriverà il momento della nostra morte saremo pronti. Pronti cosa vuol dire? Pronti nel senso che saremo consapevoli che tutto il viaggio che abbiamo compiuto del senso di tutto il nostro viaggio e del fatto che comunque questo viaggio è semplicemente veramente un tornare a casa, un riportare a casa tutte le lezioni, tutto l'insegnamento che abbiamo appreso. C'è un esempio che spesso faccio ai miei allievi, che mi viene chiesto la differenza tra anima e spirito. Fate conto che l'anima è un po' come se fosse un raggio e lo spirito è il sole. Quindi quando noi come anima e come anima incarnata in un corpo fisico completiamo il nostro viaggio terreno, questo raggio dopo la morte fisica si ricongiunge con il sole e riporta alla fonte, all'unità dal quale si era in qualche maniera, in realtà rimane sempre collegato. avremo un po' come riportare e andare a portare questo nutrimento, questa luce, questa energia che abbiamo avuto modo di integrare in questa incarnazione, la riportiamo con il sole, con il nostro spirito, finché poi in base a quello che è il nostro percorso non decidiamo di rintraprendere e di iniziare un altro percorso, scegliendo un altro corpo, scegliendo delle circostanze diverse in base alle lezioni che abbiamo da imparare e da apprendere. Quindi il contatto con i trapassati in realtà aveva senso negli anni passati, nelle epoche precedenti, perché comunque c'era bisogno di accompagnare un po' come spiegavano prima, un po' come a spiegare ad un bambino dei concetti che in realtà adesso è un po' come l'essere umano si fosse evoluto, ma anche evoluto a livello di insegnamenti. Adesso è come se siamo studenti universitari, quindi che abbiamo bisogno di nozioni e di concetti di un altro tipo. Quello che vedo io giornalmente nelle persone che si rivolgono a me e che arrivano per chiedere una seduta di channeling è che in realtà a volte mi fanno, ma posso fare delle domande, che tipo di domande posso porre alle mie guide. In realtà quello che io faccio mi metto in ascolto, mi metto in contatto prima di tutto con lo spirito della persona che ho di fronte e chiedo alle proprie guide, a parte le mie guide ma soprattutto alla sua squadra di aiutanti, di portare un messaggio che in questo momento possa essere di sommo e di massimo aiuto per quello che la persona sta vivendo. Quindi possono arrivare tutta una serie di informazioni, di indicazioni, ma anche un supporto energetico perché poi c'è anche un aiuto nell'andare a riequilibrare quelli che possono essere l'eventuali squilibri, tutto quello che in quel momento quella persona sta vivendo anche da un punto di vista energetico. Quindi anche tutto quello, infatti in gran parte del mio lavoro riguarda anche i cosiddetti nodi carnici, quindi spesso c'è bisogno anche di andare in vite precedenti o ad andare a sanare, a sciogliere, a trasformare anche qualcosa che abbiamo vissuto in un'ancarnazione precedente che in qualche maniera ci portiamo ancora dentro. Il cosiddetto come karma, dharma, da sciogliere, insomma sono termini che credo tutti voi più o meno o conosciuto e abbiate sentito dire. In realtà quando viene fatta una buona seduta di channeling, quando comunque si riesce veramente a portare questo messaggio alla persona, le domande in realtà poi alla fine della seduta non ci dovrebbero nemmeno essere perché se veramente siamo riusciti a portare un messaggio che arriva dalle guide e da maestri che in quel momento stanno sostenendo quella persona, loro, le nostre guide e maestri sanno quello che la persona sta attraversando e gli danno già tutti gli strumenti e tutto quello di cui ha bisogno in quel momento. C'è da dire anche che in questo momento è molto importante anche aiutare le persone nel contattare, nel risvegliare il proprio maestro interiore e anche la propria capacità da soli di riuscire a canalizzare e entrare in contatto con il nostro sesso superiore e attraverso quella parte lì, che è tutta questa parte qua, a riuscire a comunicare con tutta la moltitudine di esseri di luce, di maestri che ci accompagnano e ci circondano nel nostro percorso terreno. È il momento in cui prenderci la responsabilità di chi siamo ma anche iniziare a usare il, oltre che noi siamo talmente abituati a usare il nostro veicolo terreno, il nostro corpo fisico, ma riuscire a contattare e avere piena padronanza di quelli che sono i nostri corpi sottili in questo momento è fondamentale. Come spiegavano nella conferenza all'inizio, anche il fatto che noi interagiamo continuamente con l'aura di chi ci circonda. come vedete sono molto colorata, poi le immagini che vedete sullo sfondo sono gli aurografi, alcuni degli aurografi che ho realizzato con questa tecnica, fermati proprio lì, perfetto, con questa tecnica che si chiama Incausticart che è una tecnica che utilizza delle cere a caldo che tra l'altro poi nella dimostrazione pubblica che ci sarà dopo il mio intervento proverò, comunque chiederò al mondo spirituale di portarmi o di darmi degli aurografi per voi che siete collegati da casa. Se vedete ad esempio questo sullo sfondo, non so se riuscite a vederlo dallo schermo o quello sotto, quello scordi un pochino più no? Ok, ok. Praticamente si vedono delle immagini, ci sono dei volti, a volte praticamente il mondo dello spirito si manifesta portando delle immagini antropomorfe, quindi è uno strumento, una tecnica di contatto con il mondo dello spirito utilizzando proprio il colore. Il colore perché comunque tutti noi siamo fatti di energia, abbiamo un corpo aurico, un corpo energetico, tutti i nostri chakra e formato da tutti i chakra sono questi spirali, questi vortici di energia che unendo si formano la nostra aura, quindi è molto importante anche fare la lettura dell'aura perché attraverso la lettura dell'aura si vede tutti quelli che possono essere eventuali blocchi, squilibri e così via. Lo spirito in realtà noi siamo fatti di colori e riuscire a avere anche conoscenza ma soprattutto entrare in contatto con la vibrazione del colore. A volte per entrare in contatto con il mondo dello spirito basta farci una passeggiata in mezzo alla natura, in mezzo al bosco, semplicemente entrare in contatto magari con un albero, guardare il colore della sua chioma, delle foglie, tutte queste sfumature di verde che vanno dal verde chiaro al verde esmeraldo, già lì, perché gli alberi spesso dice fare meditazione con gli alberi, il verde in realtà è proprio il colore del nostro chakra del cuore, quindi semplicemente mettendoci lì ed entrando in contatto attraverso questo colore con la vibrazione del verde esmeraldo, questo ci aiuta, cioè come se sentiamo proprio come se il nostro cuore si apre. a tutti penso che sarà capitato di dire guarda ho proprio voglia di farmi una passeggiata in un bosco in mezzo al verde, quindi proprio perché semplicemente lo stare in contatto con l'energia della madre terra e contattare quello che è anche a livello proprio di colore, indipendentemente dal fatto che comunque naturalmente ogni albero ha la sua energia, la sua aura, ci trasmette comunque la sua, come se entriamo in contatto con lo spirito, c'è un libro molto bello che si chiama Lo spirito degli alberi, come ogni albero praticamente ci porta un dono, un insegnamento, quindi tutto ciò che ci circonda è spirito, perché noi quando parliamo del contatto dello spirito con lo spirito pensiamo sempre che sia lo spirito di un'entità, quindi un trapassato, di un angelo, di una guida, di un maestro, in realtà vi garantisco che è possibile, anche a volte molto semplice diciamo nei miei corsi la prima cosa che faccio è quello di fare queste meditazioni questi esercizi per entrare in contatto ad esempio con lo spirito di un fiore, di una pianta, di un albero e ricevere proprio anche un messaggio, comunicare e sentire che cosa quel fiore, quella pianta ha da dirci, ha da portarci. Ad esempio il popolo degli elementali, quello delle fate, le fate, gli gnomi, gli elfi esistono, cioè non è che sono delle favole che si raccontano ai bambini, gli elementali sono i cosiddetti angeli della natura, coloro che presiedono e hanno questo compito in questo momento di salvaguardare e di proteggere il popolo degli animali, delle piante, proprio la madre terra e quindi le fate in realtà sono delle entità, delle entità angeliche che si manifestano a noi, soprattutto a persone che hanno questo grande amore, questo grande rispetto nei confronti della natura, della madre terra, degli animali. Un altro messaggio che in questo momento sento di portare come compito è quello anche di supportare e sostenere il popolo degli animali perché spesso in questi anni mi è capitato di essere un tramite per portare magari il messaggio di un animale che è trapassato e che desidera portare a quella che è stato il... non mi piace usare la parola padrone perché noi in realtà non è che siamo padrone di niente, non è che gli animali sono delle nostre proprietà, sono veramente come delle... sono dei membri della nostra famiglia a tutti gli effetti, cioè sono... fanno parte... che poi vabbè spesso io personalmente ho due cani, due bassotti, adesso la piccolina, la Lili da circa una settimana è passata nel mondo spirituale, quindi per me sono come dei figli, sono i miei bambini e vi garantisco che anche il dolore per la perdita, comunque per il momento del trapasso, quando la Lili ha deciso, ha scelto, è arrivato il momento di lasciare questa dimensione, è lo stesso veramente di quando una persona della nostra famiglia ci lascia. sono... il loro compito è proprio quello di essere delle aiutanti, sono dei maestri in tutti i sensi, delle alleate, delle aiutanti spirituali e ci portano comunque sempre... quando un animale arriva nella nostra vita, anche gli sciamani insegnano questo, se avete mai sentito parlare ho fatto dei percorsi legati agli animali di potere, gli animali totem, quando incontrare attraverso di meditazione, attraverso dei viaggi sciamanici, il proprio animale di potere, animale totem, no? Quell'animale che in quel momento ci sta portando il suo potere, il suo supporto per aiutarci in quello che stiamo attraversando in quel momento. Ma gli animali arrivano anche fisicamente nella nostra vita, quindi non è mai a caso se quel gattino, piuttosto che quel cane arriva nella vostra vita, che molto spesso ne pensiamo di scegliere, in realtà sono loro che scelgono noi. Oppure magari mentre siamo a fare una passeggiata, alziamo gli occhi e vediamo un passerotto piuttosto che un gabbiano, piuttosto che un uccellino che vola, che ci appare, no? Quindi in quel momento ci sta portando sempre un messaggio, cioè sono dei, gli animali sono dei canali che utilizza il mondo dello spirito per riuscire a comunicare con noi, cioè sono veramente dei tramiti, degli strumenti che utilizza per portarci dei messaggi. Spesso anche, ad esempio c'è stato un periodo molto lungo attraverso il quale, dopo che la mia nonna era trapassata, si manifestava ad esempio attraverso un pettirosso, questo pettirosso che veniva tutti i giorni sul davanzale della mia finestra, addirittura un giorno aveva lasciato la porta aperta, la porta spalancata di casa, e è entrato in casa, quindi io sapevo che questo pettirosso era lei, cioè comunque era un tramite che lei utilizzava per farmi sentire la propria presenza, la sua presenza al mio fianco. Il contatto con il mondo dello spirito, quello che vorrei che arrivasse come messaggio è che lo spirito è ovunque intorno a noi, noi in primis siamo spirito, perché spesso quando si parla abbiamo stravolto completamente quella che è la verità, nel senso che noi siamo esseri spirituali incarnati in un corpo fisico e non siamo esseri terreni che hanno anche un corpo spirituale, uno spirito che non si sa bene come e quando, al momento della morte, dove andrà, cosa farà, il paradiso, la reincarnazione oppure l'eterno riposo, cioè quando si parla di queste cose spesso, in realtà riuscire, la nostra vita dovrebbe essere un continuo e costante contatto con il nostro spirito, un ascolto, come diceva prima Paola, riuscire a stare nel silenzio, cioè semplicemente metterci, chiudere gli occhi, porci in questa attitudine di silenzio e di ascolto, ed ascoltare che cosa la nostra anima, il nostro spirito ha da dirci, che cosa, come si sente, se i passi che stiamo compiendo nella nostra vita sono quelli giusti per noi. Quando una persona viene a fare una saluta di channeling, spesso alla fine diciamo che queste cose in effetti le sapevo già, cioè quindi il compito anche del medium, del channeler, così come volete chiamarlo, di coloro che ci aiutano a, è semplicemente quello di ricordarci ciò che noi siamo, ma soprattutto quello che già sappiamo, cioè quindi non a caso si usa il termine di guida spirituale, le guide spirituali sono anche quelle che incontriamo qui sulla Terra, che sono persone che hanno magari già fatto un percorso, che magari conoscono già quella strada e semplicemente ci prendono per mano e ci accompagnano in un percorso che loro hanno già fatto, quindi è come conoscere, dice guarda, vieni, ti prendo per mano e ti accompagno io, io so la strada, io la conosco, quindi il nostro compito, il compito delle persone che si rivolgono a noi, è quello semplicemente di prenderle per mano e senza però andare contro quelle che sono le leggi universali del libero arbitrio e di tutto quello che veramente, senza togliere alla persona la possibilità di scegliere, di fidate di quando vi arriva un messaggio, un messaggio attraverso, un messaggio che arriva dai maestri, dalle guide spirituali, un messaggio che non porta mai delle decisioni, non vi dice mai fate questo piuttosto che quell'altro, oppure questa cosa è giusta, questa è sbagliata, oppure c'è sempre un messaggio dove c'è un accompagnare la persona nel fare la scelta però, nel dargli gli strumenti per scegliere da sola, prendendosi la propria responsabilità della propria vita e a volte anche dandogli la possibilità, l'opportunità tra virgolette di sbagliare, anche se sbagli non esistono, io direi più che di sperimentare, cioè di passare attraverso quell'esperienza che in quel momento può essere funzionale per quello e per la lezione che ha da imparare, un po' come fa un genitore con un bambino che cerca di proteggerlo, di supportarlo, però a volte lo lascia anche cadere, oppure magari gli dice guarda non mettere la mano lì che sennò ti bruci, però a volte abbiamo bisogno anche di appoggiare la mano e di bruciarci per comprendere che il fuoco comunque brucia e quindi attraverso quell'esperienza magari puoi porre più attenzione nella nostra vita. Quindi in questo momento quello che vi suggerisco di fare è di iniziare semplicemente a le cose più semplici, come vi dicevo prima, fatevi una passeggiata in mezzo alla natura, mettetevi semplicemente lì, sentite il calore, l'energia del sole e poi il sole comunque ci aiuta a riconnetterci con l'energia del nostro terzo chakra, la vita, la gioia, cioè il sole soprattutto in questo momento addirittura, sembra i medici stanno dicendo che neutralizza anche questo coronavirus, non lo so perché non sono il medico, comunque la vibrazione del sole, anche a livello di frequenza, della gioia, della gratitudine, è una delle frequenze più elevate che ci siano qui sulla terra, quindi quando vi capita magari di cadere, soprattutto in questo momento, in pensieri di paura, di angoscio, di essere un pochino coinvolti e travolti da tutto quello che stiamo vivendo a livello planetario, semplicemente uscite fuori, mettetevi lì e sentite proprio l'energia del sole, come quasi a nutrire, a portare queste informazioni, questa vibrazione della luce e del sole a tutte le vostre cellule. Se vuoi, Manu, sono arrivate le prime domande. Allora, Melania chiede, c'è una differenza nell'essere tramite nel channeling e nella medianità? Allora, come spiegavo prima, sono due termini che hanno semplicemente una differenza, hanno avuto una differenza a livello storico, perché il medium era colui che inizialmente portava il messaggio dei trapassati, che poi si è evoluto in questa figura del channeler, perché gli insegnamenti e le entità che venivano canalizzati erano non più, come si diceva prima, trapassati, ma guide spirituali, quindi entità che avevano vissuto la dimensione terrena, ma si erano evolute al punto tale che gli era stato dato questo compito di accompagnare le attreste umane nel proprio percorso terreno, fino a canalizzare anche messaggi di maestri o di entità spirituali di vario tipo, senza stare lì e entra nel merito, Crayon o comunque tanti altri maestri che hanno portato il loro messaggio. e la differenza sostanzialmente è che non è che sono io che scelgo, voglio che sia chiara questa cosa, cioè non è che mi metto lì e io chiamo e dico guarda, c'ho davanti a una persona e mi viene da me e dice guarda io vorrei parlare con mio padre, oppure io vorrei comunicare con, non so, con la Maria Maddalena, piuttosto che con Crayon, piuttosto che qualsiasi altro maestro, no, non funziona così, nel senso è la comunicazione per quello che è il mio modo di fare channeling e quello che mi è stato insegnato anche dai miei insegnanti, meglio una questa scuola anche inglese e spiritualista dove vado da tempo, è che la comunicazione avviene dall'alto verso il basso, semplicemente quello che faccio io è che utilizzando il mio corpo spirituale, cioè entro in contatto con il mio corpo spirituale come se mi sposto, mi sposto su, cioè rimanendo, non è che mi sposto fisicamente, mi sposto un passaggio ad un altro livello, ad un'altra frequenza ed è come se andasse ad allungare la mano per entrare in questo incontro con il mondo e lo spirito e chiedo al mondo e lo spirito di portare un messaggio alla persona che ho di fronte che possa in quel momento essere di massimo aiuto per la sua evoluzione, e quindi a volte succede che magari per quello che sta vivendo la persona in quel momento ha necessità, ha bisogno anche di ricevere il messaggio da un trapassato perché magari ci sono delle cose in cospeso che ha lasciato con suo padre, con sua madre, con un figlio che è morto e quindi magari c'è sempre comunque un intento dal mondo spirito di aiuto, di guarigione per aiutare nella propria evoluzione, mentre può darsi che quella persona ha necessità invece di ricevere quello che è il suo percorso e di ricevere, oltre che il messaggio, anche una frequenza perché pensate che non è soltanto l'informazione che arriva, comunque quando ho spiegato prima che il medium, comunque lo che faccio io è anche quando si parla di trans healing, il medium va in uno stato di trans, in un senso uno stato alterato di coscienza dove oltre a dare una comunicazione porta anche l'energia di quel maestro, di quella guida, quindi magari è possibile che arrivi un maestro del cuore, come può essere, non so, qualche maestro del raggio verde o comunque quel raggio che ha incarnato anche Gesù, il maestro Gesù per portare questa persona a questa guarigione, questa apertura del cuore. Francesca chiede, come possiamo radicare la nostra luce? radicare la nostra luce, se ho compreso bene quello che vuol dire Francesca, come possiamo portarla, portarla proprio, radicarla qui sulla terra? Questa è una domanda interessante, nel senso che quello che ci viene chiesto di fare adesso come esseri spirituali incarnati in un corpo fisico è quello proprio di incarnare la maestria, cioè un po' quello che è riuscito a fare, come prima dicevo, Gesù è il maestro Gesù, cioè lui è stato un maestro incarnato, quindi lui è riuscito a, dove i suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni erano allineate, quindi ciò che lui pensava, ciò che diceva, faceva e portava nella materia. Anche lui, vabbè, come tutti noi esseri umani, poi a volte è entrato nella sofferenza, della rao, cioè ha vissuto quello che non troviamo nei Vangeli, però se leggete il Vangelo segreto di Gesù o tanti altri Vangeli, il Vangelo degli Esseni, il Vangelo di Esseni di Gesù, viene raccontata proprio la sua vita anche umana, dove è caduto anche lui nella rabbia, nel senso di abbandono, nella sofferenza, nella delusione, quindi ha vissuto anche i sentimenti più legati alla dimensione terrena, però quello è stato sempre un come, è un po' come attraversare quella sofferenza per andare sempre di più in contatto con la luce, alla ricerca della luce e radicarla nella nostra vita quotidiana. Prima qualcuno diceva proprio il fatto di, come diceva anche Gesù, vi riconosceranno ai suoi discepoli, vi riconosceranno non dalle vostre parole, ma dalle vostre azioni, cioè, quindi da ciò che farete, cioè, quindi, non male che a volte incontro anche io tanti di questi ambiti, o comunque in generale nella mia vita, tante persone che si dichiarano, o comunque mi chiedono a me, ma te sei una persona religiosa? E io dico, no, io sono una persona spirituale, o che comunque cerco sempre di portare la spiritualità e ciò che io sono come spirito nella mia vita quotidiana. A volte anche io, sicuramente con i miei limiti, perché non è che sono un maestro, cioè, non ho incarnato completamente la maestria, però quantomeno ci provo, cioè, quindi è inutile magari, che ne so, ora non voglio entrare in discorsi religiosi, andare in chiesa, comunque recitare dei mantri, andare in un tempio buddisto, senza andare a parlare di cristianesimo, buddismo o di religioni, però qualunque sia la fede, comunque la filosofia, a quale aderite, se poi magari usciti da quel contesto lì per strada, magari offendete una persona, o comunque vi arrabbiate, o comunque inveite, sia verbalmente che fisicamente, con qualcuno, lì mi viene da pensare che questa luce non è completamente radicata come dovrebbe essere. Antonella ci chiede, ho sognato due cani, in uno mi hanno colpito gli occhi verdi e molto espressivi, l'altro era un pastore tedesco che letteralmente mi è saltato addosso per farsi abbracciare, c'è un messaggio in questo sogno? Allora, come spiegavamo prima, gli animali, o comunque i cani, sono delle guide, c'è un libro, questo libro che sto scrivendo, che mi è stato ispirato già da un po', parla proprio degli animali come guide per l'anima, cioè sono veramente delle guide spirituali che ci accompagnano, quindi, e anche ci aiutano, ci supportano da un punto di vista, portandoci anche una guarigione, quindi questo fatto già a questo cane, con questi occhi verdi, comunque gli occhi sono lo specchio dell'anima, gli occhi ci aiutano a entrare in contatto proprio con la nostra anima, con il nostro spirito, quindi il raggio verde, come spiegavamo prima, è un raggio che ci aiuta proprio a portare questa apertura del cuore, soprattutto a ricontattare completamente il nostro cuore, e quindi poi l'altro pastore tedesco, ho detto l'aggrediva invece, no? L'abbracciava? Sì. Sicuramente questo sogno porta un grande, già l'abbraccio, il verde, comunque il cane, il cane comunque come potere, come dono, porta a quello dell'amore incondizionato, questo senso di fiducia, e di amore incondizionata, che sembrano delle parole abbastanza, vi faccio un esempio per comprendere quello che loro realmente incarnano, la storia di un cane, realmente accaduto nella città in cui vivo, in cui era stato addirittura massacrato di botte dal proprio padrone, seppellito nel giardino di casa, i vicini sentivano dei lamenti, insomma questo cane in realtà era ancora vivo, hanno chiamato i vigili del fuoco, è stato dissotterrato, è stato liberato, sapete la prima cosa che ha fatto, appena è stato tirato, insomma è uscito da questa buca, è andato ad abbracciare, a fare le feste al padrone, che aveva praticamente, praticamente che voleva ucciderlo, questo è, cioè questo vuol dire veramente amare in maniera incondizionata, cioè riuscire ad amare anche coloro che ci fanno del male, del male appunto tale anche di, di volerci uccidere, quindi questo è un qualcosa che, i cani riescono a fare, perché comunque loro ci danno amore, non solo senza chiederci nulla, ma ce lo danno anche se non gli facciamo del male, quindi sicuramente questo sogno porta un grande messaggio di amore, di amore, di fiducia, a questa persona che l'ha fatto, quindi è un grande, sento un grande aiuto, un grande sostegno, e gli direi anche di mettersi in ascolto, soprattutto come mai gli è arrivato questo messaggio, forse può darsi che in questo momento, non stia dando abbastanza amore a se stessa, o comunque può darsi che sia anche un compito, che magari ha da portare a lei, per quello che mi arriva, ma in primi sia qualcosa da dare a se stessa, per portarlo anche agli altri. Melania ci chiede, come posso entrare in contatto con le mie guide? Allora, le nostre guide intanto ci affiancano continuamente, non ci lasciano mai da soli, e cercano attraverso qualsiasi strumento di comunicare tra noi, ad esempio utilizzano anche dei canali, anche a volte fisici, tipo i numeri, le sequenze numeriche, i segni, a volte non so, ti sarà capitato di trovare delle fiume, dei cuori, oppure a volte i cuori che si formano inspiegabilmente, magari mi cade dell'acqua e si forma un cuore, quindi questi sono tutti dei segni, che comunque usano anche a livello fisico. Riuscire a comunicare con le proprie guide, le proprie guide, si utilizza quello che è il nostro corpo, questa parte qua, cioè la parte diciamo l'essenza, il nostro corpo spirituale, per così dire, quella parte di noi eterna, perché comunque le guide hanno questa frequenza, questa vibrazione molto elevata, anche se spesso cercano di avvicinarsi a noi, anche da un punto di vista vibrazionale. La cosa importante è ascoltare, che sembra una cosa anche banale, ascolta il tuo cuore, tutti dicono, ascolta il tuo cuore, cosa vuol dire ascoltare il cuore? Ascoltare il cuore vuol dire riuscire a mettere un attimino, non ascoltare la mente, quantomeno come non è possibile, è impossibile mettere a tacere la mente, ma cercare di non dargli attenzione, perché più noi non gli diamo attenzione, non gli diamo nutrimento, e più la nostra mente perde forza, perde energia, e quindi è un po' come se magari vi rendete conto che parla, ma in realtà parla sempre meno, e parla in maniera che a un certo punto dite, ma non è che sei zittita, però è molto lì tranquilla, ed entrare nella parte di noi definita più femminile, la parte di noi intuitiva, quella parte del sentire, cioè quando a volte, soprattutto che noi donne abbiamo molto sviluppato, anche se adesso ce la siamo un pochino, ce la siamo dimenticato, quindi entrare in questo sentire, che a volte sappiamo la parte cosiddetta dell'intuizione, tutte la chiarosienzienza, la chiarudienza, ma semplicemente quando dice, se questa cosa la sento di pancia, cioè il plesso solare, è un altro centro energetico molto importante, per riuscire a entrare in contatto con l'aura, con l'energia delle persone, e anche con l'energia delle nostre guide spirituali, quindi intanto iniziare a dare sempre più energia, al nostro sentire l'ascolto di cuore, rispetto a quella mente. Sonia mi scrive, volevo sapere come comprendi ed aiuti gli animali. Allora, in realtà è molto semplice, perché quella è una cosa che è, qualcosa che è sempre stato presente, da quando ero bambina, questo amore per gli animali, e anche questo ricevere da loro dei messaggi, ricevere degli aiuti, attraverso tante, tante, tante forme, quello che sto cercando di fare adesso, oltre a comprendere e a comunicare con loro, mi hanno chiesto, cioè mi hanno chiesto, qualcosa in cui sono arrivata, senza chiedere, dopo aver fatto anche un percorso di scuola, io frequentando dei corsi, c'è una medium, si chiama Lilian Steiner, che insegna al college, che è molto brava, e che fa comunicazione con gli animali, comunque ci sono tanti che si sono specializzati, tanti medium che si sono specializzati, e hanno proprio per questo desiderio, questo amore degli animali, di comunicare con loro, perché comunque purtroppo, spesso la difficoltà che ho io, non è tanta a comunicare con gli animali, che è anche abbastanza una cosa intuitiva, loro sono, essendo comunque amore puro, essendo così aperti, riesci, vabbè c'è tutto, non con tutti, però è abbastanza semplice, la cosa più difficile a volte, è riuscire a comunicare, a comunicare il messaggio, che dà l'animale al proprio padrone, cioè comunque a comunicare, magari anche quel disagio, quello che sta vivendo, quell'animale, e che il padrone magari, non è così disposto ad ascoltare, quindi è un po' come fare da mediatore, tra il rapporto, tra animale e umano, quindi la cosa più complessa, è quella, cioè un po' come comunicare con i bambini, è naturale, a volte è difficile il rapporto con i genitori, perché... Silvia dice, spesso mi vibra fortemente l'orecchio, sono loro? Sì, l'orecchio inteso, comunque ne abbiamo anche un orecchio, così chiamato, spirituale, quello che si utilizza per la chiarudienza, per sentire proprio anche, il messaggio, del mondo dello spirito, quindi il fatto che ti vibri, è un po' come se loro, a volte stanno richiamando la tua attenzione, ma stanno anche andando ad attivare quel tuo canale. Ok, abbiamo un minuto per rispondere a Sonia, io vedo sempre i numeri doppi, 11, 11, 17, 17, 21, 21, o 22, 22, che messaggio portano? Un messaggio dei maestri, perché vengono chiamati numeri doppi, o numeri maestri, perché proprio 11, 11, 22, quando un numero è ripetuto, già è doppio, perché l'uno, due volte uno, poi addirittura 11, 11, quindi sono chiamati i cosiddetti numeri doppi, o numeri maestri, sono proprio dei messaggi, dei contatti che arrivano diretti con i maestri spirituali, ma sono anche dei portali energetici, quindi come se in quel momento, ad esempio l'11, 11, è un messaggio in cui ti stanno dicendo che ciò che stai vivendo, sei completamente allineato, e quindi c'è proprio come se stai incarnando questa maestria, poi tra l'altro, cioè sulla numerologia ci sono tanti testi, però comunque questi sono proprio delle, i numeri doppi sono numeri maestri, e in cui si entra in contatto proprio con l'energia dei maestri. Grazie mille. Grazie a voi, saluto tutti, vedo che tutti quelli che mi hanno seguito da casa, adesso come vedete qui, dietro di me ci sono questi colori, queste immagini, e per chi avrà voglia di rimanere con noi, mi auguro perché adesso entriamo proprio nel vivo della sperimentazione, in quanto verrà data proprio sperimentazione dei vari aspetti della medianità, e di come avviene il contatto con il mondo dello spirito, e di come il mondo dello spirito arriva a noi e ci porta un messaggio, quindi sperimenteremo la parte della metafonia, del contatto che avviene attraverso Slavi, magari con la chiarudienza, la chiarosensienza, la sua chiarovieggenza ci porterà questi messaggi, e poi io utilizzerò la parte invece dell'arte spirituale, facendo durante questa dimostrazione pubblica, chiedendo al mondo dello spirito di portarmi degli aurografi per voi, dove potrà esserci un messaggio da un vostro caro del mondo spirituale, da una vostra guida, quindi al termine vedremo se arriverà qualcosa per voi, e poi lo condivideremo e ve li farò vedere. Bellissimo, grazie a te, ringraziamo tanto per il tuo intervento Manuela Giorgi, e quindi mi raccomando rimanete connessi qui con noi, abbiamo la solita dieci minuti di pausa circa, per poi appunto la dimostrazione in diretta, vi aspettiamo numerosissimi, a tra poco e ancora grazie Manuela. Grazie. 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 Rieccoci qua, cari amici, di nuovo bentornati a questa diretta su Focus dal decimo convegno Sentieri Infiniti di Trieste, dove l'evento, vi ricordiamo, si svolge a porte chiuse. Ora passiamo ai prossimi relatori, che faranno un esperimento di metafonia e medianità in diretta. Vado a presentarveli. Lui è Antonio Fois, già ospite costante del canale Focus, appunto da dove stiamo trasmettendo. Antonio è nato e cresciuto a Biella, dove risiede. È diplomato come disegnatore meccanico, motorista e da sempre studia e segue tutto ciò che è fisica tecnologica e soprattutto la metafisica. Ha sempre avuto contatti con il mondo spirituale sotto forma di chiara udienza e per questo motivo ha iniziato a studiare e praticare la metafonia, seguendo il metodo di Riccardo di Napoli. Da anni pratica la pranoterapia e la guarigione spiritualista, formato presso l'Arthur Finlay College di Londra. Ricercatore e sperimentatore spirituale, studioso e divulgatore dell'antroposofia steineriana. È membro attivo del cerco medianico Anima e Cuore di Novara, scusate, e del gruppo italiano di metafonia spirituale, nonché socio fondatore dell'associazione Anima e Cuore, appunto, di Novara. L'altro relatore, anzi relatrice, che collaborerà all'esperimento di metafonia e medianità in diretta, è Slavi Ghering. Slavi viene da Mendrisio, organizzatrice dei convegni di parapsicologia I sentieri infiniti, titolare del centro Intuizia, parapsicologa e insegnante, medium, autrice e coautrice di nuovi libri. Partecipa a numerosi convegni, conferenze, dimostrazioni pubbliche di medianità e channeling in diversi paesi. Creatrice e presidente dell'Accademia Internazionale di Parapsicologia Applicata e di Ricerche Psichiche Intuizia, che è l'ente formativo ad essere ufficialmente riconosciuto da ASPIM, per formare gli operatori olistici nelle direzioni delle ricerche psichiche in Europa. Colgo l'occasione, anche visto il momento, di farvi vedere il suo ultimo libro, appena uscito, anzi fresco di stampa, che si tratta della parapsicologia moderna. Ve lo inoltre, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, ringraziamo Slavi Gheri. Ringrazio da parte mia anche voi spettatori. E ora lascio il posto ai nostri relatori. I nostri due relatori sono accompagnati anche dalla Manuela Giorgi. Grazie, prego e benvenuti. Eccoci. Buonasera, buonasera a tutti. Come stiamo? Ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti, che bello vedere così tanti spettatori. Il convegno, anche se facciamo online, adesso vediamo un attimino che si vede bene. Perfetto. Antonio, adesso metto la parola. Che dire, hanno detto tutti i relatori fantastici di prima, quindi siamo un po' spezzati anche perché è cambiato il programma del convegno dove c'è una sala piena di viventi e invece ci abbiamo con pochi viventi e molte anime tantissime. Quindi non ci sarà la sperimentazione di metafonia indiretta come era prevista, ma faremo qualcosa di indiretta, qualcosa che succederà. Allora, due parole sulla metafonia perché penso che quasi tutti ormai la conoscano, io sono su Focus almeno una volta al mese, però non penso che tutti sappiano cosa è la metafonia. Metafonia consiste nella registrazione proprio a tutti gli effetti delle voci degli altri mondi, non solo del mondo spirituale, ma a volte anche di altre dimensioni, io ho avuto dei messaggi di fonti extraterrestri. Detto questo, la metafonia avviene con diverse tecniche, che non è il caso di stare lì a spiegare tutte perché non stiamo facendo un corso, ma una spiegazione. Sostanzialmente si usa una fonte radio, può essere usato anche rumore, frusci, però la fonte radio, quindi diamo come base una voce, una voce di uno speaker di una radio, possibilmente in una lingua molto lontana e sconosciuta dalla nostra, non neolatina, per evitare confusioni, e quello che avviene è qualcosa di inspiegabile a livello proprio fisico, perché viene proprio modulata dal mondo spirituale, questa voce viene modulata e cambiata per andare a formare una frase inizialmente in senso compiuto. Dunque, io al di là di questo potrei farvi ascoltare alcuni messaggi. Sì, così ci rendiamo conto che le persone possono capire in che modo arriva la voce. Alcuni messaggi belli, chiari, ricevuti, chiaramente aggiustando anche l'audio perché non abbiamo avuto neanche la possibilità di provare l'audio della sala, quindi vediamo cosa succede. E poi tra l'altro, mentre Antonio si prepara, posso dirvi che è successa una cosa stranissima, raccontiamogli questo, perché non sapevamo ancora se andrà in onda o facciamo il convegno così con i spettatori presenti in sala. Allora Antonio facendo i suoi esperimenti a lui è arrivato il messaggio, ancora prima che abbiamo deciso di fare questo convegno in diretta, puoi far sentire, magari qualcuno riuscirà subito a capire di che cosa si tratta, io sono rimasta stupita che infatti alla fine abbiamo eseguito esattamente ciò che ci ha detto il mondo dello spirito. Il messaggio dice Fois con Slavi, quindi era proprio un'incitazione a non fermarsi da andare avanti con questo convegno, il 2 marzo, quando non si sapeva ancora neanche se c'era il permesso per fare. Provo a lanciarlo con l'audio. E poi tra l'altro non abbiamo mai lavorato insieme con Antonio e questo per noi è uno sperimento pazzesco, perciò lo facciamo subito in diretta, anche una esperienza completamente nuova in questa collaborazione che andrà alla grande, perché il modo spirituale ci ha già detto che sarà così. Chi mi conosce sa che è tutto un gabolare con cavi e cavetti, quindi... Abbiamo tutta la pazienza. Allora, il messaggio dice Fois con Slavi. Sentiamo. Volume. Fois con Slavi, adesso qualcuno dovrebbe dare poi un feedback. Se qualcuno è, per favore, sì. Lo rimando. Fois con Slavi. Incredibile. Mi viene incredibile. Anche adesso. Sì. E allora Fois con Slavi, siamo qui davanti a voi e facciamo questa diretta. Allora, ti prepari? Preparo, sì. Ok, allora io spiego un attimino come funzionerà, almeno come abbiamo pensato di farlo. Qui abbiamo Manuela che è già in opera e ha cominciato a fare le sue aurografie bellissime per qualcuno di voi, perché noi lavoreremo per voi e facciamo così. Io farò magari due, tre contatti in diretta con le persone trapassate, con le vostre cari che stanno nel mondo dello spirito, poi prendo la parola e vi spiegherò un attimino cosa intendo a dire. Intanto ci sono sicuramente le persone che non hanno mai fatto, che non hanno mai ricevuto i messaggi così in diretta e allora vi spiego come funzionerà. a me arriverà qualcuno dal mondo dello spirito, i vostri cari. E io comincerò a dare le evidenze per poter riconoscere chi è venuto a fare compagnia a noi e a voi, certamente. E man mano riconoscete la persona, vi prego per piacere subito scrivere se conoscete, se non riconoscete, no se riconoscete ovviamente non scrivete, se conoscete, se riuscite a capire di che cosa si tratta. Perché i nostri cari vogliono essere riconosciuti, però attenzione, magari può venire qualcuno che non vi viene subito in mente, perché non si tratta soltanto dei vostri cari, non si tratta soltanto dei vostri genitori o i figli o fratelli, sorelle, mariti, moglie. Si può trattare anche di una persona che conoscete o magari un amico di famiglia che non vi viene subito in mente, però provate a sforzarvi allargando un attimino di più il cerchio della ricerca della persona. Può essere che arrivano, che più persone potranno riconoscere chi arriverà inizialmente e poi dopo piano piano dando più messaggi riusciremo a capire di chi si tratta precisamente. Io chiedo Cristina per favore se mi puoi dare una mano nei messaggi, sapete che arriverà tutto circa dal tempo reale che noi stiamo facendo pari, va circa mezzo minuto di ritardo e allora avete per favore la pazienza, perché noi riusciamo a leggere tutto. E nel frattempo Antonio, visto che comunque siamo a volte qua delle bellissime anime che arrivano dal mondo dello spirito, prende qualche voce magari dell'ambiente, magari arriverà qualcuno che dirà un nome, cerchiamo di darvi più messaggi, perciò qualcosa arriverà da me, qualcosa arriverà da Antonio o magari arriverà anche un animo che vorrà parlare con entrambi. A me dà un messaggio e poi Antonio prende una seconda metà. Sì, è tutta una sorpresa inaspettata. Noi proviamo, uniamo tutte le nostre forze e energie, la Manuela che sta lavorando, Antonio che prende i messaggi dall'ambiente, non lo so, dalla radio. Io ho preparato una traccia già pronta, che ho registrato questa mattina, che devo ancora lavorare chiaramente. Sì, perché Antonio era da stamattina che sta lavorando e infatti durante il convegno ormai ha già preso un po' di... Ci sono arrivati altri messaggi di conferma su oggi. Siamo felicissimi che voi siete qui con noi. Allora, noi cominceremo proprio giusto fra pochissimo perché Manuela ha spiegato bellissimo che cos'è la medianità e c'è una grandissima importanza perché le persone vogliono entrare in contatto con il mondo dello spirito. Si tratta di elaborazione, elaborazione delle proprie emozioni riguardo del lutto e una specie di guarigione per la nostra anima attraverso quale possiamo incontrare di nuovo il nostro amore che pensiamo spesso che il mondo spirituale ci ha strappato, ci ha portato via e allora se noi non vediamo la persona presente in carne, nel corpo fisico pensiamo di averla perso per sempre. Però noi siamo qui proprio per farvi vedere che non è così, è che è possibile entrare in contatto con il mondo spirituale in diverse modalità, metafonia, disegno, contatto diretto. Ognuno, ogni medium lavorerà nella propria maniera e questo è che è bello nei contatti con il mondo spirituale perché anche loro vogliono comunicare con noi. È sempre, sempre online. Noi riceviamo i loro messaggi attraverso i sogni, attraverso diversi segnali attorno a noi, magari accendiamo la radio e sentiamo la canzone preferita del nostro padre o del nostro marito, del nostro fratello e così viene fatta questa comunicazione. Il mondo dell'aldilà vuole entrare con noi in contatto. Dico sempre, immaginate, trapassiamo tutti. Immaginate che voi siete nell'aldilà e rimangono qui sulla terra i vostri cari e certamente noi ci preoccupiamo come stanno i nostri figli, come stanno i nostri cari e vogliamo dirgli guardate che noi stiamo bene. Se sono andate via nel mondo dello spirito avendo ancora in mente di dire qualcosa, magari perché non ho abbracciato una persona cara o perché non ho detto delle parole molto importanti, c'è sempre questa possibilità che i nostri due mondi si uniscono in questo grande amore e noi vogliamo proprio confermare che la comunicazione è possibile. Loro costantemente ci ascoltano, sentono le nostre preghiere, sentono i nostri messaggi, però non sempre noi riusciamo ad ascoltarli perché dobbiamo proprio sforzarsi infatti per capire i loro messaggi, a volte abbastanza metaforici, però a volte anche metaforici, a volte molto molto chiari. Allora direi che sì? Gianluca chiede se si devono concentrare da casa. Sarebbe proprio bello se voi pensate ai vostri cari. Prendiamo un attimino di tempo, che tutti quanti concentriamo e mandiamo un grande amore nel mondo dello spirito, chiedendo ai nostri cari di venire qui da noi. Qui ci sono anche i relatori seduti in questa sala. Io mi concentro di più, scusate, per lavorare con il nostro pubblico, però potrebbe essere perché è il mondo spirituale che decide per chi deve arrivare in contatto. Se per caso riconoscete anche voi qualcuno, fatemi sapere, d'accordo? Ma andiamo tutti quanti insieme, la nostra luce e il nostro amore, che due luci e due amori si incontrano adesso in questa diretta. Io andrei con qualche messaggino ricevuto un po' carino, anche molto importante, qualcuno l'ha già sentito. Questo è un messaggio cristico questo, quindi non di defunti ma di guide spirituali. Dice, portiamo nel sangue Cristo Gesù. Il messaggio ricevuto un paio di mesi fa, un po' di più di due mesi fa, prima che iniziasse il problema del virus. Quindi sono una serie di messaggi che sono arrivati da lì in successione, quasi a dare una sorta di tranquillità. Portiamo nel sangue Cristo Gesù va inteso come tutti noi abbiamo, come hanno detto i relatori precedenti, abbiamo la nostra parte divina, quindi il sangue che è quel fluido che trasporta comunque l'energia spirituale nel nostro corpo, il Cristo Gesù, quindi il logos che da 2000 anni è con noi. Lo mando, portiamo nel sangue Cristo Gesù. Allora, aggiustiamo l'audio. A me sembra un po' basso, però si sente. Senti, ma noi abbiamo microfoni, abbiamo i microfoni. E se mettiamo il microfono possiamo metterlo davanti? Sì, penso che si senta. Magari se qualcuno manda un messaggio. Questo è carino, dice che che bella notizia, uno va a casa. Quindi la conferma che di là è casa. Confermano che si sente. Ecco, uno va a casa proprio sospirato. Che bella notizia, uno va a casa. Allora, questo. Di notte portiamo un angelo nel tuo letto, sì. Anche questo è molto collegato a cosa hanno detto i relatori precedenti, cioè quindi durante la notte il nostro corpo astrale, l'anima che si stacca ed entra nei mondi spirituali, entra in contatto con le parti angeliche. Di notte portiamo un angelo nel tuo letto, sì. Questo non è molto alto come audio. Ok, andiamo avanti. Vediamo cosa posso. Ci sono dei messaggi molto lunghi che non è il caso. Ci sono dei messaggi anche di Padre Pio. Ecco, questo è molto carino. Ho ricevuto prima di Natale gli auguri da Mondo Spirituale. E noi crediamo in preghiera, Natale c'è. E noi crediamo in preghiera, Natale c'è. E può servire il microfono? Perché dopo siamo... Proviamo, proviamo quel microfono. Quindi stacchiamo l'audio. Proviamo, facciamo le prove. Facciamo la prova. Noi cattiamo in preghiera, Natale c'è. Adesso bisogna che qualcuno dica qualcosa perché per noi è chiaro. Come audio. Andiamo avanti. Sì. Questo è un messaggio di Gustavo Roll. La voce è la sua. Qui c'è il voice che viene a cercarmi nei cieli. Come è ferma? Siamo ferma? Siamo ferma. C'è qualcuno? Mi scelta in diretta. Fateci sapere, per favore, se ci senti, se vi vedete. Può essere che... Ah, ok. Quindi dicevamo questo messaggio. Qui c'è il voice che viene a cercarmi nei cieli, la voce di Gustavo Roll. Gustavo Roll si è presentato come guida già diverso tempo fa e porta parecchi messaggi. Allora, questo è un messaggio, lo lancio perché so che ho l'autorizzazione dalla mamma, perché l'abbiamo già pubblicato. È un messaggio di un bambino di tre anni, che è volato a luglio dell'anno scorso. ricevuto a un convegno qui di Vicenza qualche mese fa. Con la sua voce dice, ci hai messo un'altra roba sopra. Lo lancio, poi ve lo spiego. Ci hai messo un'altra roba sopra. Ecco, questo messaggio di questo bimbo è stato confermato dalla mamma che era in sala, che alla mattina aveva messo un cuoricino sopra la fotografia del figlio. Scusate, ma quando lo sento vado un po' in crisi. È molto forte come messaggio, soprattutto quando nel mondo spirituale troviamo i nostri bambini. Ancora uno che sta caricando. Facciamo così, spegniamo un attimino. Perché io qua ho tantissime anime. Adesso devo andare io a... Quella della diretta, perché non sappiamo cosa sta succedendo. Ah, ok, d'accordo. Io l'ho sempre in carica. In carica. Scusate, dobbiamo proprio vedere un attimino se funziona tutto. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo in diretta? Sì. Dice, non è inizio questo? No, siamo in diretta. No, siamo in diretta. Ok, siamo in diretta? Sì, sì, siamo in diretta. Ok, perfetto, grazie. Grazie per la conferma. Antonio, posso chiederti una cosa? Se puoi andare avanti, magari registrando adesso quello che accade, perché ho qua una fila delle persone del mondo dello spirito che stanno... Che mi stanno spingendo. Perciò cominciamo con la medianità. Perfetto, grazie mille. Allora cominciamo. Vi abbiamo dato il tempo perché voi potete chiamare i vostri cari del mondo dello spirito e io sento che stanno arrivando tantissime diverse energie. E la prima energia che sento è un'energia maschile. Qui vicino a me c'è un uomo. E io direi anche un ragazzo perché è un uomo giovane. Mi sta parlando della sua vita in militare. Perciò io sento che lui o ha fatto militare o ha avuto proprio a che fare con ordine. Perché sento proprio questa parola. Non so se sto parlando di un vostro familiare. Qui proprio una persona. Io sento una morte violente. Non mi capita spesso parlare di militare che è morto in servizio. Però potrebbe essere anche questo. Allora sento che aveva la famiglia. Non era per niente da solo. Sento che ha vissuto tutto il suo tempo infatti dedicando la vita al servizio. Non so, militare, polizia. Abbiamo già un paio di persone. Un paio di persone. Ok. Che è molto probabile o morto in servizio. Morte violente. Le è successo qualcosa molto tragico. E come fosse la sua vita è stata interrotta da un incidente. Non posso dire che è un omicidio o qualcosa di genere. Però è un incidente. Non lo sento molto lontano infatti da questo posto. Anche se siamo collegati con tantissime diverse persone. Perché siamo a Trieste. Io sento comunque una cosa molto vicina. Io vedo una persona che abbiamo qui del nostro staff. Che mi sta facendo accenno. Puoi portare il microfono. Per favore. Però ascoltiamo anche voi. Vedete come avevo sentito che poteva essere qualcuno. Puoi dire per favore a voce. Ah no. Ok. A Trieste sono morte due persone. A Trieste sono morte due persone. Sono di ordine polizia militare. Di polizia. Ok. Adesso datemi per favore qualche conferma. Perché sto parlando. Io sento qua uno. Una persona. Un uomo. Che aveva la famiglia. Perché sento che aveva, non so, figli, moglie. E lo sento molto presente. Proprio legato al posto di qua. Mi potete dire qualcosa? Perché abbiamo bisogno della conferma. Un qualcosa al microfono. Potete dire per piacere? Sì, poi abbiamo un po'. Ok. C'è qualcuno da... Cristina? C'è qualcuno collegato? Si va via la linea. Allora guarderò io da qua. Scusate, ma quando cominciamo a lavorare con queste cose, devo vedere come scorrono i messaggi. Sì, due poliziotti, uno è più giovane. Ok. Abbiamo più persone. Ti chi risponde? Come si chiama? Allora abbiamo... Mariella dice... Oggi sono due mesi che Gaetano si è tolto la vita. E Luigi scrive sì due poliziotti, uno è più giovane. Ok. Allora io spiego che è un... Non so se stiamo parlando di questi due poliziotti che sono... Era una tragedia qui a Trieste, credo. Mi sembra che sono proprio entrata... Quando? 4 ottobre? 4 ottobre mi stanno dicendo. Ecco, ok. Sì. E questo... Sento un'anima giovane. Mi metto un po' in agitazione. Non sono io agitata. Sento proprio l'energia che è arrivata. Perché è la prima volta che sta comunicando. E allora sento la sua agitazione. Su mancare i bambini. E' un'emozione molto forte verso la moglie, verso la famiglia. E le sta chiedendo scusa perché se ne è andato così presto. E' una cosa completamente inaspettata. Mi vengono privi. Potete capire di che cosa si tratta. Ah, è stato proprio un amicidio. L'hanno sparato. Ok. Perciò chi sta ascoltando qui di Trieste. Allora abbiamo qua il caso... In caso di questo genere. Adesso vediamo se magari vorrà qualcosa dire anche attraverso Antonio. Io percepisco... Anche non so se facevo sport o qualcosa di genere. Ma lo sento una persona molto dinamica. Mi fa vedere anche i muscoli. Aspetta, ce l'avevo. Sì? Mi conferme. Potete poter parlare il microfono per favore. Sì. Ok, grazie. Mariella scrive. Mia figlia è stata in caserma dei carabinieri dopo il dramma. E Silvia scrive. Li hanno uccisi in questura. C'è un messaggio di conferma. C'è un messaggio di conferma da parte di Antonio. Che dice avremo dei nuovi militari qui. Oddio. Ascoltiamo. Prendo ancora solo... Un po' di amplificazione. Vediamo se arriva l'audio. Avremo dei nuovi militari qui. Mariella scrive e Gaetano. Un attimo che mettiamo a posto anche qui l'audio. Avremo dei nuovi militari qui. Rimando. Si sente? Avremo dei nuovi militari qui. Quindi conferma che erano due carabinieri, capito? Sì, poliziotti. Polizia. Polizia. Oh Dio. Infatti avevo già sentito una volta questa cosa. Era molto agitato il ragazzo. Proprio. E credo che non avrebbe mai pensato di poter dare il messaggio in questa modalità. Per questo era molto agitato. Avete sentito il suo messaggio? Che qua, che magari ha conosciuto la famiglia, che sta ascoltando, per favore mandate questo. questo saluto, perché non riesce neanche a parlare molto, fa vedere soltanto il suo corpo fisico, era un ragazzo molto forte. Conferma tutto, Mariella scrive, Gaetano era muscoloso, 40 anni, faceva piscina e arti marziali. Comunque, non lo so, mi sembra che voleva raccontare qualche barzaletta, ma era una persona che aveva un senso di umorismo, non lo so, io sento qua barzaletto. Magari c'era un altro suo amico che aveva una bella lingua con le barzalette, perché sento che mi sta arrivando anche un'altra energia che potrebbe essere anche il suo compagno di viaggio ormai nel mondo spirituale. confermano anche che si sente bene Antonio tutto, si sente bene il messaggio. Si conferma che si sente bene il messaggio. Bene, allora perché magari stava aspettando, è arrivato. Adesso sento un'altra energia e li saluto, saluto questo ragazzo qua, visto che siete tanti io cerco di andare avanti e percepisco qui l'energia femminile. La signora che si è presentato, io la sento nella stretta parentela con qualcuno di voi, sento energia molto femminile, sento energia materna, però mi si confondono due energie. perché mamma e la zia potrebbe essere che sono entrambi nel mondo spirituale e tutti e due avevano il ruolo importante nell'educazione della persona che adesso sta guardando e sta ricevendo questo messaggio. La mamma, sento, magari un pochettino più tranquilla, la zia è più vivace, avevano due caratteri un po' diversi, però si volevano bene tantissimo. Erano proprio, mi fanno vedere che erano molto, molto unite fin da bambine, non si sono mai staccate e anche da adulti le loro strade spesso verranno insieme. Tutte e due erano sposate e poi vedo proprio unione di famiglia, una famiglia molto unita e questo mi fa piacere sentire questo messaggio che vogliono dare di questa unione delle persone, soprattutto legate all'albero genealogico. Io credo che sto dando messaggio alla figlia, alla figlia sì, e ovviamente nipote, nipote che sta guardando. Perciò percepisco che c'è qualcuno in famiglia, perché mi fa sentire o medico o paramedico. o qualcuno, abbiamo già Jimmy che scrive, mi sa che sono mia mamma e mia zia. Ma hanno qualcosa a che fare con la medicina? o c'è un medico in famiglia o mi fa vedere comunque un ospedale, mi fa sentire un odore proprio tipico delle medicine. Perciò posso interpretare in modo sbagliato magari dicendo che era un'infermiera, invece magari c'era un'infermiera che prendeva cura della mamma o della zia. Per favore se potete rispondere, perché è importante, mi fa vedere anche orecchini, sono orecchini piccolini e credo che mi sta mandando questo la mamma. E questi orecchini potrebbero rimanere in famiglia, magari tipo come le perle, magari sono rimaste in famiglia, come un bel ricordo. Per favore mandateci le risposte, c'è qualcuno che ha risposto? Katia scrive, mia zia è mancata martedì e mia mamma è in ospedale. Ok, no, io sento che la mamma è trapassata nel mondo dello spirito, però no. Io qua ho due persone, perché la mamma e la zia sono tutti e due nel mondo dello spirito. Katia, io ti mando tantissimi auguri per la guarigione della tua mamma, però io percepisco che sto parlando con due persone trapassate. Poi cosa posso raccontarvi? Mi fa sorridere la zia, soprattutto, perché la sento molto, molto vivace e sta dicendo di andare un attimino, di ballare, di fare qualche attività fisica, di essere più attivo nella vita, di partecipare a più cose. Perché per chi sono arrivate, è la persona che infatti magari è un attimino ferma nella vita, perciò dicono di fare, fare, fare molto e molto di più. Uscire con amici, però tenere la famiglia unita in quanto è possibile. Io sento che comunque sono arrivate per una femmina, perciò Jimmy se tu ascolti, vedi se corrispondono tutte queste messaggi anche a te, ascolta, però secondo me io sono qua con una donna. Siamo un po' in ritardo infatti con i messaggi che piano piano stanno arrivando. Abbiamo Debora che dice che forse potrebbero essere la sua mamma e la sua zia. Ok, Debora puoi riconoscere per favore se nella vostra famiglia avete avuto un cagnolino che non lo so, sento proprio come un barboncino. E questo potrebbe essere una conferma, perché sento che il barboncino apparteneva, mi viene di dire, in passato, parlare in passato. Abbiamo anche Angela che dice mia mamma è nell'aldilà, ho erettato da lei degli orecchini. Ok. Non so se lei, mi addio, è morta due anni fa e era molto allegra. Va bene. Orecchini, ci siamo? E se c'è un animale in famiglia? C'è o c'era? Perché potrebbe essere che un cagnolino è andato poi insieme alla sua padrona. Allora, abbiamo un messaggio un po' particolare che potrebbe dare un indizio. Ascoltiamo il messaggio e vediamo. Che dice tu mi hai preso i soldi. Oh, interessante. E' raro che ci siano dei messaggi legati alla materialità, però tu mi hai preso i soldi. Allora, audio. C'è tutto che mi hai preso qui. Intanto io torno con Deborah, non più Angela, ma Deborah, che dice che aveva un cagnolino black. Ok. Allora, torno un attimino indietro a prima, perché c'era questo che diceva figlio da te. Tu hai parlato, mi pare che hai parlato di un figlio, subito. Ho capito male. No, non ho detto figlio da te, figlia. Anche Angela. Figlio da te. Ok. Mi potete confermare per favore Angela e Deborah, se qualcuno di voi ha un figlio maschio? Se visto che stiamo facendo proprio questo esperimento e vediamo se riusciamo a mettere insieme tutti i pezzi. Poi subito dopo abbiamo questo che dice, me lo sai dire per i nonni? Io in cuffia purtroppo non sento cosa, qual è il contesto del discorso. Me lo sai dire per i nonni? Me lo sai dire per i nonni? Abbiamo una conferma. Angela dice, stiamo dividendo l'eredità di mia zia ora. Ok, perfetto. Quindi, il messaggio... Ma anche Deborah dice sì. Ok, ma il figlio? Noi stiamo cercando la persona con il figlio per confermare quello che è arrivato in diretta. Jimmy dice, la voce ricorda mia zia, quindi il figlio potrebbe essere Jimmy. Ok, di cosa c'entrano orecchini? Allora, io vado avanti con le evidenze per vedere, visto che siete... Hai preso soldi? I miei soldi? I miei soldi prendi. I miei soldi prendi. È fortissimo. Allora stiamo parlando di un'eredità. Stiamo parlando di un'eredità. Deborah conferma che ha un figlio. Ok, allora Deborah, tu hai un figlio, la mamma e la zia sono nel mondo spirituale, hai avuto, o cioè hai un cane, perché qua hai un'energia molto forte, parliamo dei orecchini, non so se hai confermato lei dei orecchini, però ci pensi perché mi facevo proprio toccare e mi diceva tu non hai orecchini, infatti oggi proprio non ho messo orecchini e lei mi teneva e si vede che magari la signora le ha portato sempre. Però quella che parla dell'eredità è Angela che dice mia sorella ha un figlio maschio. Sorella, perciò stiamo parlando sempre. E ci sono sempre in mezzo anche orecchini? Chi ha parlato dei orecchini? Allora, io percepisco che, a me stanno parlando in modo come è trapassata la mamma, sento un affaticamento e una malattia legata non al cuore, perché magari una di loro, perché sono tutti e due che cominciano a confondere, perché tutti e due vogliono parlare tantissimo, però sento la zona di pancia e come è stata presa questa malattia e portata avanti e sicuramente è stata fatta anche un'operazione. Tutto porta ad Angela comunque, nel senso che gli orecchini, Angela dice che parlavano degli orecchini, il cane c'è, sembrerebbe portare ad Angela, che scrive abbiamo messo l'eredità in mano di un avvocato. Ok, va bene. Allora secondo me ci siamo. E ha degli orecchini che lei portava sempre, scrive. Quindi i miei soldi prendi sta legato all'eredità. Sì. Allora, ascolta il messaggio Angela, allora crediamo che è proprio per te, perché corrisponde tutto. I miei soldi prendi. I miei soldi prendi. I miei soldi prendi. I miei soldi prendi. Bellissima conferma, molto bello. Da brividi, veramente da brividi. Ah, un'altra cosa che devo dire. Mia mamma ha avuto un cancro alla pancia, dice Angela. Allora Angela, siamo con te e il mondo spirituale è con te. Sono felicissima che siamo riuscite a portarti un bel messaggio, addirittura da due persone che sono nel mondo dello spirito. Bellissima esperienza. Noi abbiamo ancora un po' di tempo. Emanuela, tu vuoi farvi vedere già qualcosa? Ok, allora facciamo entrare anche Emanuela, vi farà vedere un messaggio e poi torniamo con altri contatti con il mondo spirituale. Emanuela, ti do il mio posto. Ecco, sono tornato. Allora, mentre Slavi stava facendo i suoi contatti, sono collegata col mondo spirituale e ho chiesto appunto di portare un messaggio, un contatto attraverso proprio il colore. Allora, mi dispiace che non avete visto proprio come funziona, questa è una tecnica nella quale si utilizza. Non so se riuscite a vedere un po' Cristina, se vedo abbastanza bene così. Sì, è un po' in ritardo quella diretta che vedo. Ok, da qua si vede. Ok. Tutto per capire se si vede abbastanza. Non so come avvicinarlo. Sì, perché siamo un po' in ritardo. Ok. Si vede. Comunque per spiegare, questa è una tecnica nella quale si utilizzano delle... Quello che è chiesto, vabbè, di solito si fa con la persona presente, per cui io do questo foglio bianco, lo do in mano alla persona. E quindi, diciamo, come se richieda di entrare in contatto con il proprio cuore, con la propria aura spirituale e di collegarsi. E appunto come se l'energia della persona rimane in qualche maniera... In questo caso, non avendo la persona qui con me, ho chiesto appunto di fare da tramite e attraverso appunto canalizzato questa energia, che affinché venisse impressa attraverso questi colori, attraverso queste immagini che sono venute. Allora, qui purtroppo non si vede molto bene, ma qui nella parte, qui nell'angolo, ora nello schermo è un po' difficile, si è formata proprio, non so se vedete qui, la sagoma di un gatto proprio, c'è un gattino, vedete qua c'è la testa, la sagoma e la coda. Cioè, se vedete nell'angolo, in questa parte grigia, comunque si è creata questa parte, diciamo, bianca, dove il colore, questo argento in realtà, e sopra c'è anche un cuoricino. Di solito tutte le parti bianche che si formano poi, inspiegabilmente, vabbè, è tutta energia spirituale. Quindi il bianco, quindi questo è un contatto che arriva dal mondo spirituale. La fattispecie, questo è un gattino che ha voluto farsi vedere, quindi è un gatto che è nel mondo spirituale, che è venuto a portare il suo messaggio. Quello che mi ha detto quando si è entrato in contatto, quindi praticamente è un gatto che è trapassato. Quello che mi ha detto è che, perché comunque va, bisogna portare comunque delle evidenze, no? Per affinché voi possiate riconoscere, quindi prestate attenzione chi adesso è in ascolto e chi ha un animale, una fattispecie, un gatto nel mondo spirituale. Questo micio adorava i croccantini al salmone, o comunque in generale i croccantini al pesce. Gli piacevano tantissimo anche i gamberetti e il tonno. Porta con sé questo ricordo della sua casa, una casa con il giardino, quindi c'è una casa nella quale viveva questo gattino, una casa con un giardino tutto intorno, nel quale amava molto stare proprio sdraiato al sole, perché mi ha fatto proprio vedere questa immagine di lui, credo che di fronte a questo giardino, poi c'era anche come, non so, una veranda o comunque qualcosa proprio all'ingresso di questa casa, dove lui mi ha fatto proprio vedere questa immagine che se ne stava tutto sdraiato, allungato così beatamente a godersi il sole. Abbiamo già un riscontro di Sara che dice il mio amore è da lì. Ok, andiamo avanti, vediamo se altre cose che... Quindi Sara continua ad ascoltare quello che ho da dirti se rivedi il tuo da lì. Poi una cosa mi ha fatto vedere che, perché poi gli facevo le coccole, lo accarezzavo quando sono entrata in contatto con lui e a un certo punto gli ho accarezzato il musino e lui mi ha detto no, come se gli dava fastidio il fatto che lo toccassimo sul naso, perché a un certo punto quando sono andata lì ho detto no, sul naso no, quindi credo che gli dasse anche un po' fastidio se gli veniva toccato il naso, non lo so se aveva avuto qualcosa, magari non lo so, se era caduto o c'era stato qualche trauma, perché quando mi sono avvicinata a questa parte qua proprio del naso, lui mi ha detto no, il naso non è come se ha fatto questo gesto. Poi viveva in una casa con un altro gatto, mi fa vedere, non so se, perché questa cosa se già al momento in cui c'era ancora lui, c'era un altro gatto o se dopo che lui se n'è andato è stato preso un altro gatto, perché vi faccio vedere che adesso al momento nella sua casa c'era un altro gatto che vive in questa casa. Si divertiva molto a dar la caccia alle lucertole e amava le coccole ma non da tutti, con alcuni diciamo che decideva lui da chi farsi coccolare e accarezzare perché alcune volte era anche un po' schivo. Comunque ora mi ha detto il nome in realtà mi arrivava proprio l'idea di un maschietto, di un gatto che non ho finito di... Sara scrive sì, non voleva, credo fosse appunto riferito al naso. Ok, quindi da questa... Parli di animali? Sì, di un gatto. Gatto, ok. Un miscio, ti è arrivato qualcosa. Con voi c'è gatti. Dai. Con voi c'è gatti, è anche bello chiaro. Ascoltiamolo. Allora, prima c'è questo che dice del tizio porti foto. Dice qualcosa? Dice perché poi c'è un altro, perché poi un altro è arrivato invece per una percetta. Ok, con voi c'è gatti. Con voi c'è gatti. Dai. Siamo a bassi di volume però. Io sono al massimo. Con voi c'è gatti. Vabbè, però posso amplificarlo. Aspettate. Con voi c'è gatti. Lo ralento un pochino, così è più chiaro. Ok, confermato che ci sono i gatti. Quindi è stato riconosciuto da? Da Sara. Sara. Sara, si chiama Dalì? Dalì. Ok, quindi allora Sara, il tuo Dalì porta comunque questo messaggio di un amore che va oltre, che viene da un percorso molto lontano, quindi c'è un legame molto forte con lui e sa che non è stato facile lasciarlo andare, come non è facile per te adesso. Sa che questo contatto era un qualcosa che ti dà tanta gioia, ma allo stesso tempo ti porta in questo senso ancora di mancanza. Ma lui vuole dirti che è sempre con te, che ti affianca e che credo ti dia anche tanti segni della sua presenza, perché spesso penso ti succederà di sentire magari come proprio la presenza quasi fisica di lui accanto a te, perché lui è sempre molto con te, con il suo corpo spirituale. Io ho come la sensazione anche che sia anche pronto a tornare, da te anche una forma fisica. Comunque questo magari chiedimi l'amicizia su Facebook, così mi mandi il tuo indirizzo, un messaggio privato, io te lo spedirò per posta, perché questo è qualcosa che è giusto che arrivi a te, come dono dal tuo Dalì. Ok? Abbiamo anche un messaggio che dice, e con Fido sei tu. Ovviamente usano questo nome Fido, che è il classico nome di cane o di gatto, per confermare che comunque la tua anima è sempre con loro, e loro è sempre con noi. Sara comunque scrive, ne avevo tanti di gatti, lui era il mio dorato, mi chiamava mamma. Grazie, grazie infinite. Quindi Sara mi raccomando scrivimi, insomma mandami il tuo indirizzo, perché ci tengo a spedirtelo e a fartelo avere. Andiamo avanti. Poi è arrivato un altro, non so se lo vedete da qua, ok, si vede abbastanza bene Cristina? Aspettate. Ok, quindi è arrivato un altro dove, vabbè, è molto diverso, sia come immagini, come colori. Poi in realtà mi dispiace perché già non è facile, perché questi, già a occhio nudo, si vedono dei simboli, delle immagini, delle forme che... però questo in realtà adesso è un contatto che arriva anziché dal popolo degli animali, da questo messaggio, questo orografo diciamo, arriva come dono, è per una donna, da una nonna materna, che è stata come una mamma, nel senso che comunque vedo questa donna molto presente, nel senso che ha avuto un ruolo, sì che era una nonna materna, ma con un ruolo come di una mamma, perché comunque è molto presente anche fisicamente nella vita, nella crescita, nell'educazione, quindi con un'energia molto amorevole. Il mese di maggio è un mese molto importante per la famiglia, quindi credo che mi dice come se c'è una ricorrenza, un anniversario, qualcosa che si celebra, si festeggia nella famiglia proprio nel mese di maggio. Mi ha dato il nome di Maria, che non necessariamente è il nome di questa donna, ma può essere un nome legato a un familiare, o comunque un nome che in qualche maniera la persona a cui è rivolto questo contatto può riconoscere. C'è qualcuno che arriva con noi? Mia nonna materna, Giovanna, mi è cresciuta, dice Annalisa. Il mese di maggio, Annalisa, e il nome di Maria ti dicono qualcosa. Poi la persona per cui è rivolto invece questo aurografo, quindi quella che riceve, non quella che è nel mondo spirituale, ma diciamo la nipote a cui è rivolto questo aurografo, è in un momento di grande cambiamento su tutti i piani della sua vita, sia a livello materiale, quindi sta rivedendo tutto quello che riguarda il suo aspetto lavorativo, familiari, legami affettivi, ma anche nella sua parte spirituale, perché poi questo cambiamento parte da un cambiamento suo interiore. e questo grande processo di cambiamento ha avuto inizio nel mese di agosto ed è come se adesso fosse proprio nel piano di tutto questo. Un'altra cosa che mi ha detto proprio questa nonna è che gli accettamenti medici di cui sta aspettando le risposte andranno molto bene. Abbiamo tantissime persone che trovano... Ah, ok, che riscontro. Annalisa però ha più risposte. Perché questa cosa degli esami medici, perché comunque mi fa vedere che c'è stato come se lei ha fatto degli accertamenti, non so, esami del sangue o insomma degli accertamenti medici di cui sta aspettando la risposta ed è anche un po' preoccupata per questo, come se andrà bene anche questa cosa. Quindi anche questo è come se fosse un... Una cosa che mi ha chiesto questa nonna è quella di donarlo proprio fisicamente e la persona che lo riceverà deve tenerlo tra le mani e guardare i colori e le immagini perché in questo momento è proprio come un mandala che gli porterà un supporto e un aiuto nel riequilibrare la propria energia per questo momento di trovare quella forza per questo grande momento di cambiamento della sua vita. Abbiamo più persone che si riconoscono in tutto. Abbiamo appunto Anna-Lisa che si riconosce anche negli accertamenti medici cardiologici, abbiamo Federica che dice è per me, abbiamo Maddalena che dice mia nonna mi ha fatto da mamma, mi chiamo Maddalena Maria, a maggio il battetimo di mio figlio sto passando un periodo di grande cambiamento ma non ci dice degli esami medici. Come si chiama questa? Maddalena Maria. Maddalena Maria. Qui sento come è stata l'energia, qui è forte su questa madre. Eh sì. Chiediamo se ha fatto degli accertamenti Maddalena. Ci sono anche, mi sta dicendo questa nonna, che ci sono anche degli orecchini che appartenevano a lei che sono arrivati a Maria Maddalena. Qualcosa proprio come i gioielli che appartenevano a questa nonna. Maddalena non si ritrova sugli accertamenti medici. Ok, questa cosa degli orecchini. Vediamo se... mi chiesto da noi di dare un'altra... Che ti senti trapassato con un infarto. Cioè il marito del signore che è arrivato. Ok, ti senti che... Ok, se il nonno... Mi diceva Slavi che quello che gli arriva è che il marito di questa nonna è trapassato attraverso un infarto. E che sono lì insieme. Maddalena dice sono preoccupata perché sono in zona pericolosa per il virus. Antonella dice mia nonna. Questa cosa degli orecchini e anche il fatto se il nonno è trapassato per un infarto. Come ci diceva Slavi. Arrivano altri commenti ma non legati a Maddalena. Ma non c'è la mente per Maddalena. Io uso sempre gli orecchini di mia nonna. Linghi... Casa Linghi... Mi fa notare, Stefano. Allora... Maria Assunta... Io festeggio l'anniversario a maggio. Accertamento utero. Poi frequento un cancer dell'antropologia esistenziale. gioielli no, orologio accorta sì. Non sono io, il nonno è qui. Quindi non è per l'inghi. Sara chiede quanti figli aveva la nonna? Come si chiama? Dove abitava? Come sempre noi diciamo quello che ci dicono loro. Come spiegavo prima... Eccoci qua. Maddalena. Mio nonno ha avuto un arresto. Era un'altra Maddalena, credo. Aspetta che controllo. No, no, no. È sempre la stessa Maddalena. Dice mio nonno ha avuto un arresto. Allora è lei, perché io già prima che Slavi mi scesi del nonno ho seguito sentito quando... Quindi Maddalena, anche te, scrivimi su Facebook, insomma, chiedimi l'amicizia, mandami, se mi mandi il tuo indirizzo ti spedirò per posto a questo orografo perché la tua nonna dice che è importante che tu lo abbia e ti aiuterà a vedrai in questo momento di cambiamento e di star serena che tutto andrà per il meglio perché c'è una parte spirituale, una parte che è molto forte, che si sta sviluppando, però c'è anche una parte tua a volte dove entri nelle paure, nelle ansie, quindi affidati al tuo sentire e soprattutto chiedi il supporto ai tuoi nonni che sono sempre accanto a te. Grazie a tutti. Ora vi do la parola a Slavi. Grazie. Che forza, ragazze. Ma che forza. Con Antonio hai qualcosa? Voi con Slavi? Appena arrivati. Voi con Slavi. Voi con Slavi. Voi con Slavi. Voi con Slavi. E voi con Slavi. E voi con Slavi. Ma è un mondo spirituale, ci voglio cosa tanto bene. Che noi abbiamo tantissimo. Che bello. C'era un messaggio, però. Sì? Vediamo cosa. Voi rimanete con noi, perché adesso andiamo avanti. mi pare che Emanuele sta parlando di malattia di qualcuno. Come? Sì, ha detto che è esatto. Ah, certamente, sì. Al meglio stai tu. Sì, dicevano che gli accettamenti di cui aspettava l'esito, che ha detto, ho proprio il futuro e il futuro avranno bene. Ok, al meglio stai tu. Ma Dalena diceva che aveva paura, se non ricordo male, che avesse paura della zona del virus. Poi c'era anche questa cosa, proprio di cui dicevano che gli accettamenti medici. Ma lei diceva, no, accettamenti medici, ma sono molto preoccupata perché sono in zona pericolosa per virus. Comunque, mentre parlava di queste cose, il messaggio è, al meglio stai tu. Al meglio stai tu. Sì. Fantastico. Mentre stavo aspettando il mio turno, mi girava attorno la cifra 27 e 27 e 27, come fosse c'è una famiglia, i spettatori che mi state ascoltando, dove 27 è una cosa molto importante, sia come la data 27, sia anche come magari data di nascita o 27 come un numero che si sta ripetendo, in famiglie che si ripete più volte. Questo numero mi sta portando, mi sta portando una donna e questa signora infatti mi stava raccontando di questo numero magico in famiglia, perciò sto parlando di una famiglia molto magica. come fosse in questa famiglia, ci sono diverse persone che ci tengono tanto ai simboli, ai numeri, magari qualcuno ha delle capacità particolari, extrasensoriali, sensitivi o medium addirittura, cioè sto parlando di una famiglia dove ci sono tante e ci sono state tante diverse persone che usavano il loro intuito e delle capacità. Questa signora, anche lei stessa ha avuto delle sue percezioni, però sto parlando di qualcuno che aveva la sua fede anche nella religione. Infatti, inizialmente non credeva in niente di tutto questo, perché, come dice, mi affidavo soltanto nelle mani di creatore e per me esisteva solo questo. Però, la famiglia ha andato, diciamo, nella direzione un po' diversa e le hanno dato le prove che è possibile infatti avere altre percezioni e credere in qualcosa, anche alla vita dopo la morte, per esempio, e lei qui per poter confermare ai suoi cari che ci crede, che ora ci crede nelle vostre capacità, sembra che si sta rivolgendo a una nipote, una ragazza con i doti molto forti. Però, numero 27, mi continua a far vedere. Abbiamo due persone, Maria Therese dice il 27 percepisca lo stipendio, mia nonna, e poi Leonardo scrive eccomi 27 l'ho sognato stanotte. Interessante, allora vediamo, però stiamo cercando delle persone con, io non vi conosco, perciò dovete dirmi voi che capacità avete, perché stiamo parlando delle intuizioni, stiamo parlando delle visioni e mi stava parlando anche dei viaggi notturni attraverso i sogni. Leonardo continua, comunico sin da bambina e la mia mamma non credeva, era molto cattolica e sentiva me. E allora, numero 27, però in famiglie continuo a ripetersi o soltanto ha sognato una volta questo numero? Mi puoi ripetere, mi puoi rispondere per favore? Interessante. Ok, questo numero 27, perché qui questa signora continua a parlare di fede, però di fede non così tanto magari attaccata alla religione, ma della fede propria, della propria spiritualità, perché vuole dire sviluppo, vai a imparare, fai qualcosa di importante per te e divulghi la parola e insegni anche alle altre persone di essere un po' percettive. Continua a ripetersi e non solo 27. però qua il 27 è abbastanza forte perché mi gira attorno. Come può essere anche la data molto importante e anche proiettata nel futuro, perciò se hai sognato il 27 potrebbe essere già un avvertimento dalla nonna e dalla mamma che sta nel mondo spirituale che è abbastanza sensitive. Mi fa vedere un giardino pieno di fiori o un balcone, comunque vedo una zona dell'aria aperta dove queste fiorelline erano curate molto bene. Guardando i fiori mi viene in mente il nome come Margherita perché sono tutte margarettini, magari non sono, non erano proprio Margherite che erano piantate ma può essere che salva fuori anche un nome come potrebbe essere un membro della famiglia come Margherita. Sì? Nadia scrive mia mamma è nata il 27 si è sposata il 27 e anche io mi sono sposata il 27. Ah, è interessante. La Nadia ha qualcosa a che fare con la Margherita se la mamma faceva da giardinaggio se aveva anche sul balcone poteva tenere qualche vaso con i fiori queste sono delle cose importanti e poi la signora che si è presentata qua è trapassato attraverso una lunga malattia non posso dire che era qualcosa di cronico però è andato avanti per un po' e lei ha cercato di non rimanere a letto di essere sempre più attivo in quanto era possibile però quando si stancava non tanto sdraiava quanto si siedeva per prendere un attimo un piatto perché non voleva proprio far ridere le sue debolezze mi sta dicendo che ha pregato tanto e anche i suoi familiari l'hanno pregato per lei perché visto che per questa signora la fede era molto importante e chi ha pregato per lei le ringrazia perché è stato un accompagnamento bellissimo per lei come l'anima da questa dimensione passare all'altra proprio nelle mani delle persone che pregavano per lei e che le volevano così tanto bene che ha che infatti porta dentro nel suo cuore e adesso volevo ringraziare c'è qualcuno che risponde Leonardo scrive erano bocca di leone e le piantava sul balcone sul balcone Donatella chiede se stai parlando di una nuora no di una nuora non credo qua o la mamma o la nonna però erano molto legati alla persona che sta ricevendo il messaggio perciò questo senso materno mi continua a confondersi tra due persone potrebbe essere che entrambi sia mamma che la mamma della mamma avevano questo senso materno e può essere che sono arrivate anche entrambi però una soltanto mi sta mandando questo messaggio della forza di andare avanti di studiare di usare le capacità però non dimenticare mai di portare rispetto al mondo spirituale e non dimenticare mai diciamo i maestri primari allora per qualche motivo la preghiera rispettosa deve essere presente nella vita proprio anche a onore della signora che sta nel mondo spirituale mi fa vedere di nuovo questi fiorellini guardate è la mia nonna Antonia che aveva tante margherite ok perché io proprio vedevo non tanto denti di leone ma quanto margherite allora Nadia io credo che io sono con te nonna mamma e io coltivamo fiori e piante Maria Teresa però mi sento molto attratta dal nome Nadia perché la parola margherita o margherite ho sentito fortemente perciò io sono qui credo mia nonna era mia seconda mamma e mamma anche entrambi sono via per la lunga malattia e le margherite che era ragazza di prima sì sì però Leonardo io credo che la tua mamma e le tue nonne sono tutti tutti due sono qui però queste margherite era proprio qualcosa che mi hanno messo in testa è una cosa molto importante proprio perché la signora che è arrivata vuole esattamente dire per chi è arrivato faccio queste margherite non mi toglie dalla mente e allora Nadia io credo che io sono con te abbiamo qualcosa Antonio come messaggio potrebbe essere con questo contatto è meglio ancora che non ha sentito contatto perciò vediamo cosa vuole dire la signora e poi casomai poi dirò io perché io sento un altro messaggio dice avrai una storia avrai una storia una storia una storia d'amore Nadia dice mia nonna era tanto ammalata per anni e pregava tanto avrai una storia forse è cambiata forse è cambiata per cui cambia una stella è diventata avrai una stella avrai una stella beh le stelle sappiamo che rappresentano ognuno la propria stella no interessante avrai una stella però abbiamo parlato prima delle capacità di non dimenticare comunque di portare rispetto la preghiera si vede che qualcosa di questo genere deve tornare magari nella tua vita o essere costante e questo arriva come la conferma non abbiamo niente ancora che dice anni prima dette il sangue lì anni prima dette il sangue lì come per dire che negli anni che ha vissuto c'era proprio faticato ha fatto fatica una vita molto difficile questo possiamo l'amplifico ancora un po' anni prima dette il sangue lì e Mari Therese scrive mia zia mi ha regalato due piantine di margherite che ha preso nel giardino della nonna quindi ancora sì però il numero 27 che deve tornare più volte e Nadia ha detto che 27 sposato 27 questo comunque tre volte ha ripetuto così queste 27 perché deve tornare più volte nella famiglia conferma Nadia conferma quello che ha detto Antonio scusa conferma Nadia quello che hai detto io mi sono dopo isolato va bene comunque ho confermato il messaggio il messaggio è confermato la mia vita è di qua però abbiamo un perapesto che sempre collegato a cosa di prima dal suo babbo c'è è caduto qualcosa si mi tirano via i cavi ma pensa te proprio se te hanno staccato il cavo vabbè l'ho appoggiato io dal suo babbo c'è ancora da pulire lo rallento un po' ascoltiamo proviamo dal suo babbo c'è Nadia scusami potresti per favore dirci se il tuo papà se c'è qualcosa non so papà se dal tuo babbo c'è se potrebbe ritornarti anche questo messaggio visto che è arrivato insieme con il contatto maritereza conferma che non è lei infatti come sentivi tu no sono con Nadia sì sicura invece ho confermato per favore se c'è qualcosa legato a papà babbo magari è stato chiamato proprio in questa maniera o è chiamato adesso in questa maniera noi cerchiamo di vedere tutto sapete come abbiamo detto arriva tutto un attimino in ritardo ok allora abbiamo ancora Manuela con altri orografi hai fatto questo allora io vi lascio ancora Manuela poi tanto ci vediamo tutti quanti insieme mio papà è vivo dice Nadia papà è vivo ok perciò parlando dal suo babbo c'è dal suo babbo vuol dire di là dal suo babbo c'è quindi questa persona che parla da di là è vicino al suo babbo magari è un periodo un po' particolare nella sua vita che Nadia poi ti dice per favore se c'è qualcosa legato a tuo papà perché il mondo spirituale lo può nominare ok in realtà è un pensiero per mia mamma che sta male quindi conferma Nadia questo grazie Nadia in realtà questo allora questo l'ho fatto è stato il terzo e l'ultimo per il quale mi hanno anche di solito i colori vabbè li scelgo a livello intuitivo ispirato al mondo spirituale nello scegliere questi colori allora premetto che questa orografa è per me il mondo spirituale ha voluto fare un dono che in realtà non so però ha molto in mente così doveva essere perché poi tra l'altro è stato particolare perché quando l'ho fatto mi hanno fatto scegliere colori occhi chiusi l'ho fatto con la mano sinistra che non sono mancina come mi hanno proprio già lì portato un'elgie dove non ero proprio perché era magari per me e la particolarità di questo è che ora non so se vedete da qui però qui c'è proprio si vede ecco la la testa di un cagnolino che come vi dicevo la settimana scorsa ho salutato la mia lilli quindi come se questo è un dono che è arrivato dalla mia bambina che è nel mondo spirituale tra l'altro poi qui c'è proprio come disegnato non so se vede nel colore come se qualcuno avesse proprio fatto questo segno c'è il simbolo di un otto dell'infinito che io prima di di seppellirla siccome con lei avevo fatto questo patto come fanno alcune sciamani tribù di sciamani africani che quando un membro della loro famiglia lascia la dimensione fisica loro fanno una segnatura fanno un con il carbone disegnano un simbolo sul suo corpo a riconoscerlo quando quell'anima decisirà di rincarnarsi quindi prima di seppellirla io ho fatto questo simbolo dell'infinito sul suo corpo e e quindi vabbè per me questo è particolare il fatto che sia avvenuto l'infinito perché è proprio legato a lei quindi poi se vedete c'è c'è questo musino questo muso suo e sopra c'è un altro piccolino perché in realtà la particolarità ve la racconto perché comunque dà proprio questo questo senso dell'esistenza che della continuità dell'esistenza perché lei se n'è andata inspiegabilmente mi aveva proprio comunicato un mese fa che era che era pronta ad andare che è arrivato il suo momento e anche se fino all'ultimo stava bene cioè nonostante aveva problemi di cuore insomma era in cura per questi problemi poi la sera abbiamo giocato poi siamo andati a dormire a un certo punto lei durante la notte ha iniziato a a respirare male ma la cosa bellissima è che ho visto arrivare tutto intorno al mio letto mio padre i miei nonni tutta la mia famiglia spirituale che è venuta diciamo ad accoglierla e prepararla la cosa bellissima è che lei guardava li guardava si metteva lì si faceva fare le coccole dava questi dava questi baci quindi sono venuta sono venute a prenderla a prepararla poi lei ha iniziato a respirare male intorno alle quattro il cuore ha iniziato ad accedere insomma è alle cinque un quarto le ho presa in braccio e mi è espirata tra le braccia e la mattina quando vabbè ho fatto questo simbolo dell'infinito l'ho salutata avevo fatto questo patto dove in realtà mi aveva già detto che sarebbe tornata in maniera anche molto veloce come tempo la mattina una mia amica mi manda un messaggio in cui mi dice mi dispiace per la tua Lilli sono molto dispiaciuta addolorata dice nel momento in cui ho visto che ho pubblicato un post su facebook nel momento in cui ho visto il post su facebook mi è apparso questo annuncio di questa invece bassottina che era una bassotta questa cagnolina che aveva fatto otto cuccioli in realtà sette mi hanno detto sette cuccioli poi ho chiamato questa signora insomma mi ha raccontato che questa bassottina il primo cucciolo è nato alle quattro il momento in cui la Lilli è iniziata a star male l'ultimo è nato un quarto alle sei che in realtà le pensavano sette in realtà spiegabilmente se ne è aggiunto un ottavo quindi sono dati otto cuccioli otto il simbolo dell'infinito nello stesso identico orario in cui lei se ne stava andando quindi questo ve l'ho raccontato perché è una cosa particolare significativa di come a volte adesso non è più come prima che i cicli di incarnazione delle anime sia umane che animali a volte dovevo passare cinquanta anni cent'anni adesso veramente succede che quando io poi l'ho sentita aspirare tra le braccia l'ho vista andare subito come un ascensore che è salita su in alto nella luce molto probabilmente è andata ed è tornata cioè perché adesso i cicli di incarnazione le anime sono veramente quasi istantanei un'anima può veramente lasciare il corpo e nello stesso momento a distanza magari di giorno o di pochissimo tempo tornare quindi grazie al mondo spirituale per questo dono grazie alla Lilli e tra l'altro cosa era avvenuto prima come messaggio di Fido non mi ricordo mi dicevi te Fido è per Fido e confido sei tu e confido sei tu come se comunque il popolo bello grazie grazie a tutti eh vai sentiamoci e confido sei tu e confido sei tu bello invece adesso abbiamo abbiamo questo è un messaggio che se c'è la persona in diretta se c'è la persona in diretta spero che ci sia lo capirà sicuramente sono due voci la con te Giulio sono due voci la con te Giulio sono due voci la con te Giulio fa domande di lei non so se lo posso dire Giulio è quel bambino piccolino di prima però può essere anche qua qualcuno sono due voci di la con te Giulio sì potrebbe essere che è arrivato quel bimbo che sta dicendo non lui ma qualcuno per lui che è accompagnato da due voci due angeli due parenti due guide due voci la con te Giulio quando si tratta dei bambini piccoli è veramente una tragedia pazzesca fa domande di lei va bene messaggi per voi l'ultimo sì cioè lì c'è messaggi per voi messaggi per voi sì messaggi per voi cioè generalmente genericamente erano tutti messaggi per voi messaggi per voi sì oh Antonio è stato fantastico è stato proprio bello noi siamo arrivati alla fine del convegno i saluti magari vediamo se se qualcuno saluta infatti potrebbe essere una cosa una cosa carina saluta anche dal mondo spirituale e nel frattempo Antonio adesso capta saluti spirituali noi per la fine del convegno io vorrei fare una cosa speciale vi faccio vedere come eravamo qua seduti per farvi capire in modo come abbiamo lavorato io girerò adesso il computer videocamera e così vi faccio vedere tutto il nostro team e tutti i relatori che vorranno sicuramente salutarvi vi faccio vedere allora cominciamo da qua e giriamo guardate bene la sala e tutti tutti quanti persone che hanno lavorato per voi i nostri relatori i nostri relatori staff tutti quanti adesso vi faccio vedere anche finalmente Cristina Cavalleri che era la voce dietro le quinte chi ha letto tutti i vostri messaggi Manuela guardate come ha lavorato per voi si vede bene perché io sono dietro il computer si vede bene ecco i suoi strumenti di lavoro Antonio guardate dove eravamo seduti tutti quanti la Daniele che è stata dietro le quinte anche con con video che vedrete poi anche su youtube Stefano Colombo Paola Giampiero staff e anche Cristina Zumbers che adesso darà l'ultima parola e poi vediamo infatti se arriverà ancora qualcosa dal mondo spirituale si vede bene benissimo un po' più su aspetta ok gestici tu tengo in mano io eccoci qua bene proponiamo un gran finale tutti quanti assieme siamo giunti così al termine di questa giornata sicuramente intensa sicuramente costruttiva e importante per noi soprattutto in questo periodo che siamo riusciti comunque a portare oggi con questa diretta un messaggio una nuova energia positiva così bella con amore costruita e creata con tutti noi e con voi che ci avete seguito in questa giornata con il nostro pensiero così e con la nostra forza mangiamo questa bellissima energia di guarigione per tutto il bene del nostro paese e nel mondo grazie Trieste grazie c'è qualche redatore che ah Gian Piero volevo dire qualcosa di importante sì volevo dire qualcosa di importante perché è molto importante il primo messaggio che è arrivato il primo messaggio che è arrivato è un messaggio da militare sì esatto è un messaggio per tutti quanti noi ma in particolare per la zona di Trieste ma riguarda tutta l'Italia è un messaggio di amore fondamentalmente nel senso che ci invita a non preoccuparci a non drammatizzare quello che accadrà quindi è un messaggio di tranquillizzazione di state sereni non vi preoccupate sappiamo già quello che sta per accadere ma non cadete nella paura quindi vorrei che riascoltiamo tutti assieme questo messaggio che ci è stato si possiamo riascoltare allora io posiziono adesso di nuovo il computer qui ok quindi il messaggio che dice avremo dei nuovi militari qui avremo dei nuovi militari qui avremo dei nuovi militari qui ok e per concludere siamo in conclusione no? si per concludere per concludere non ho scritto arriva 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 un messaggio per dare in modo spirituale per concludere alla fine adesso voi impegni grazie alla fine alla fine adesso voi impegnatevi in questo percorso ci impegniamo perché è veramente quello che abbiamo fatto ci siamo impegnate tantissimo e vi ringraziamo ancora una volta ma tanto 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 per essere qui con noi per condividere con noi questo percorso che abbiamo fatto di oggi ma il percorso spirituale in generale ringrazio tutti i relatori ringrazio il staff riguardo perché dico riguardo che cos'è che devo guardare molto interessante se vedi che non sono ancora disconnessa ringrazio tutti quanti e anche operatori che non sono potuti venire oggi infatti per svolgere le sedute private però già che sono offerte e questo per noi è una grandissima cosa dobbiamo divulgare la parola ringrazio tantissimo Cristina Somberats per la presentazione di questo convegno ognuno di voi ai relatori ringrazio personalmente che siete voi siamo a porte chiuse però comunque siamo riusciti a fare questa diretta grazie a Focus perché è un team bello forte e che riuscite veramente a comprendere la necessità di oggi di ciò che stiamo vivendo e che ci avete dato a noi questa grandissima possibilità a tutti quanti grazie grazie io sono se grazie 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 Antonio è stato bello grazie grazie mille a tutti e voglio ricordarvi che il convegno i sentieri infiniti comunque vanno avanti il prossimo speriamo bene ci sarà a Roma il 16 maggio vediamo vediamo cosa succede tra l'altro Antonio poi sarà di nuovo il nostro ospite e anche il prossimo convegno a Roma grazie mille a tutti grazie Focus grazie a tutti i conti grazie ciao a tutti a presto grazie per sostegno adesso per non sbagliare termina ok ok termina grazie mille a tutti grazie a tutti Grazie a tutti